Buonasera a tutti, vi invito ad accomodarvi, benvenuti a tutti e vi ringraziamo a nome della diocesi e del servizio diocesano per la tutela dei minori per essere qui oggi e per aver accolto il nostro invito a partecipare al primo convegno organizzato dalla diocesi per la tutela dei minori. Iniziamo con il ringraziare, ringraziare voi che siete qui oggi, ringraziamo Sua Eccellenza che ci ha accompagnato in questo anno in ogni attività che abbiamo realizzato e ringraziamo in particolare i referenti delle istituzioni che sono qui presenti e che poi vi presenterò durante la tavola rotonda che rappresenta il momento operativo importante di questo convegno. In particolare vorrei ringraziare la dottoressa Maria Pialegge che è la direttrice di Neuropsichiatria Infantile e dello Sviluppo Adolescenziale e Territoriale di Avezzano sul Monell'Aquila con la quale il servizio diocesano ha avviato una partnership progettuale e che ci ha permesso di essere qui oggi e di presentare durante la tavola rotonda il protocollo d'intesa che abbiamo realizzato con le istituzioni. Quindi ringrazio particolare alla dottoressa. Ringrazio l'arcivescovo di Lanciano e Ortona, un signore Emilio Cipollone che è qui oggi e che è il delegato per la pastorale familiare della CEAM della conferenza episcopale abruzzese molisana e il direttivo del servizio regionale tutela minori che è qui con noi oggi. Il servizio diocesano per la tutela dei minori è stato istituito un anno fa esattamente il 18 novembre del 2021. Il 18 novembre oggi è un anno, è una data importante per la Chiesa italiana e per l'Europa. È la giornata europea per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale ed è la seconda giornata nazionale di preghiera per le vittime sopravvissuti agli abusi che è stata istituita dalla CEI proprio per non dimenticare le ferite e le sofferenze di chi ha subito un trauma così profondo. In questa giornata per noi così significativa organizzare questo convegno che ha al centro la tutela dei minori ci consente non solo di non dimenticare ma di fare della tutela un obiettivo fondamentale per la protezione, per l'ascolto e per sostenere i bambini e le famiglie nel loro percorso di crescita. Quindi il nostro primo obiettivo di questo convegno è quello di essere un momento di formazione, un momento di formazione e di confronto con le istituzioni presenti, con gli operatori, con chi si occupa di tutela dei minori per affrontare con una sinergia di linguaggi un fenomeno che è fondamentalmente molto complesso, che è radicato e culturalmente determinato. Quindi è importante che le implicazioni culturali, educative, istituzionali, psicologiche, giuridiche riconoscano questa pluralità di linguaggi e insieme creare quella sinergia necessaria a mettere al centro la tutela. È per noi anche un momento di grande sensibilizzazione di quella che è la responsabilità educativa e protettiva di una comunità che si ritiene educante, quindi che metta al centro i bisogni dei minori, in particolare di ascoltare i bisogni dei piccoli, di proteggerli creando degli spazi a misura di bambino ma soprattutto degli spazi in cui ci sia l'attenzione e la priorità alle esigenze dei bambini. Creare una tutela attraverso quelle buone prassi necessarie ad affrontare, a curare e a prendere in carico i bambini che hanno vissuto momenti traumatici come quelli dell'abuso. Per questo abbiamo voluto, insieme alla neuropsichiatria infantile, avviare un percorso di conoscenza delle istituzioni e soprattutto di realizzazione di un protocollo per la tutela dei minori, per stare dalla parte dei minori, che è il titolo del nostro convegno. Quindi prima di lasciare la parola ai relatori e iniziare questo pomeriggio insieme, io invito qui Su Eccellenza a fare un saluto e a dare l'avvio ai lavori. Grazie. Buon pomeriggio a tutti. Il tema di questa seconda giornata nazionale di preghiera per la tutela dei minori della Chiesa italiana dice il Signore risana i cuori affranti e fascia le loro ferite. Intende questo salmo aiutarci a passare dal dolore alla consolazione. Questo è il tema che ci guida e soprattutto tutta la comunità cristiana è invitata alla preghiera e a riflettere su questo tema così importante. La giornata, come già diceva Lucia, non solo questo giorno è la giornata nazionale di preghiera che la Chiesa italiana ha già il secondo anno, ma è in corrispondenza con la giornata europea per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale. E quindi una giornata in cui tutta la comunità è invitata a pregare, ma anche a sostenere tutte le situazioni di sofferenza e di fragilità che segnano e toccano il cuore soprattutto dei minori, dei più piccoli. Quindi questa frase del Salmo presa come riflessione ci aiuta a comprendere che il Signore ha creato il mondo e se ne prende cura, non abbandona il suo popolo nel dolore e questa immagine della cura, la cura delle ferite del cuore, lascia intendere che Dio conosce il suo popolo, conosce la sua agenda nel profondo perché ci sono ferite che sono nell'intimo, che toccano il cuore dell'uomo, ecco, nell'intimità. Lì Dio sa arrivare per lenire il dolore, per avviare una guarigione, un cammino di guarigione. E quindi la cura, la consolazione diventa il farsi prossimo, l'accompagnare, il custodire, il prevenire e anche il formare. La nostra chiesa di Ocesano da un anno ha iniziato il servizio per la tutela dei minori e ringrazio Lucia per questo suo grande impegno e anche tutta l'equipe che qui vedo in sala, l'equipe di Ocesana. E ha voluto, ecco, preparare questo convegno, come diceva Lucia, dalla parte dei minori, ascoltare, proteggere, tutelare i minori vittime di abuso. Questo è il tema, ecco, che ci siamo dati, finalizzato a promuovere la cultura della prevenzione, della cura dei minori. Penso che sia un appuntamento molto importante che ci vede tutti coinvolti. E ringrazio anche Monsignor Emidio che è con noi e poi a conclusione anche ascolteremo che già, mi ha detto Lucia, è il nostro delegato a livello regionale, Abruzzo Molise, della CEAM, proprio per questo aspetto della tutela dei minori. E poi da Gianluca Marchetti, che tra poco ascolteremo, che è membro della commissione nazionale della conferenza episcopale italiana. E colgo l'occasione anche per dare il benvenuto e ringraziare tutte le autorità che sono venute. Ecco, questa rete che vogliamo realizzare è qualcosa di molto molto importante, perché sul territorio possiamo insieme prevenire, formare e aiutarci l'un l'altro in tutte le situazioni che possiamo affrontare su questo argomento. Allora auguro a tutti voi un buon lavoro, un buon inizio e un buon ascolto. Bene, allora con questo importante impegno di fare rete, di fare formazione e prevenzione iniziamo i lavori di questo pomeriggio e ho il piacere di presentare Don Gianluca Marchetti, sacerdote del Crero di Bergamo, dottore in diritto canonico, è cancelliere della Curia di Bergamo, direttore del servizio diocesano tutela dei minori e dell'archivio storico diocesano di Bergamo, membro del consiglio di presidenza del servizio nazionale di tutela minori, presidente dell'associazione archivistica ecclesiastica e redattore di quaderni di diritto ecclesiale. Don Gianluca ci presenterà una relazione per la tutela dei minori nell'ambito dell'intervento delle buone prassi attuate dalla Chiesa sia italiana che internazionale, quindi la Chiesa per i minori custodire, proteggere e tutelare. Bisogna obbedire, bisogna obbedire, la prima cosa che imparare è obbedire, obbedienza è pazza come Giovanni, come siamo abituati. Saluto anch'io, ho provato a salutare i Vescovi, Emilio Cipolloni, Micheli Fusco, saluto le autorità civili, le autorità militari e saluto tutti voi. Ringrazio il servizio di Cesano e tutte le minori di Occi di Summona Valve, in modo particolare Lucia, per questo evento e lei insieme ai collaboratori che hanno preparato. Il mio compito è quello di cercare di dire qualcosa su questo tema di come la Chiesa italiana e la Chiesa in generale, ma soprattutto la Chiesa italiana perché la Chiesa in generale è molto più complicato, sta cercando di prendere sul serio, reagire alla piaga degli abusi con lo stile che è tipico della Chiesa. Però mi sembra in primo luogo importante dire una cosa, alcune premesse. Innanzitutto che la realtà dell'abuso è trasversale e diffusa. C'è un po' un rischio, è un rischio sinceramente, che dal momento che quando uno pensa che l'abuso, che il mostro sia il pedofilo, il caso che passa alla cronaca, quindi è quello il mostro, non c'entra nessun altro, non è un problema, c'è un mostro, lo abbiamo identificato, è quello e quindi il problema è risorto. Ma le cose non stanno così e neppure il mostro è quello che in qualche modo si può circoscrivere una categoria di persone e anche un po' di moda, tra le altre cose. La Chiesa, tutte queste cose, è un focus, ci sono le sue ragioni, non c'è paura neanche a vederle. Però vedete, diventa anche un po' facile in questo modo dimenticare la tragica realtà degli abusi sui minori, in realtà ben più diffusa, ben più trasversale e ben più profonda. Basterebbero considerare alcuni studi, penso solo degli studi in lingua italiana, se non altro alcuni report in lingua italiana, per non prendere quelli internazionali, ma penso lo studio in molti paesi sui drivers della violenza all'infanzia, Rapporto Italia 2016, dell'Istituto degli Innocenti, di cui mi sono proprio visto in questi giorni, che c'è una mostra sugli spedali degli innocenti qui a Sulmona e quello è uno dei più importanti istituti in Italia di ricerca legato all'Unicef e all'Università di Edimburgo su questi tipi di tematiche, quindi è estremamente interessante. Oppure un altro studio molto utile, quello del coordinamento del CISMAI, il Comitamento Italiano in Servizi con il maltrattamento e l'abuso dell'infanzia, Terdesom, fatto e pubblicato dall'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Ed è interessante, questo studio per esempio dice che su 193 minorenne ogni 1000 residenti in Italia sono oggetto di maltrattamento, quindi pari a 77.493 minori. E qui poi ci sono una serie di percentuali che pure sono interessanti, 40 patologie delle cure, perché anche il termine di abuso è un termine molto vasto, vedere cosa si intende per abuso. Il conto abuso include anche i maltrattamenti, include anche le carenze nella cura con la violenza assistita, cioè è una terminologia molto vasta. A volte una cosa che funziona un po' nei mass media è mettere dietro un cappello, dentro un contenitore, un po' di tutto. Non è tutto uguale. E questo richiede anche una certa attenzione quando ascoltiamo le notizie, leggiamo i dati. Però quello che è certamente interessante è che secondo questo studio il 90% dei maltrattamenti avviene in famiglia. Le quote internazionali sono tra il 70, normalmente questa media tra il 70 e il 80%. Secondo questo studio che elabora quelli che sono i minori e a carico i servizi sociali, con tutti i limiti e questo tipo di approccio può avere, il 90%. Quindi vuol dire che il mosso, tra virgolette, è in casa. E non è indifferente questa anche osservazione che spesso ci si dimentica. Che non vuol dire a questo punto che dobbiamo criminalizzare tutte le famiglie. Capite anche a volte come si fa la svelta a criminalizzare delle categorie dimenticando alcuni concetti. Un grandissimo tema che continuamente viene sorvolato è la pedopornografia. È il mercato pedopornografico che è in costante aumento. Secondo uno studio di me, perché in Italia è tra quelli che studia, l'associazione siciliana è quella di don di noto, è quella che in Italia è più attenta su questo tema, ma sono dati comunque variati anche dalla polizia postale. È molto interessante, io leggevo nell'ultimo report questo testo, dove sono collocati i domini dei siti pedopornografici. Perché è interessante capire dove vengono collocati in qualche modo le memorie, i punti di riferimento. E pensate, io mi sarei aspettato l'Asia, mi sembrava nelle zone, nel mio immaginario. No, non è così. Sapete dove sono collocati la maggior parte dei siti? 453 in Nuova Zelanda, 353 a Grenada, 241 in Montenegro, 161 in Francia, 129 a Valle Sfotuna, che sono dovuto andare a cercare su internet dove diavolo sono finite queste due isolette e appartengono ai territori d'oltre mare francesi. Interessante. Quindi anche tante polimiche poi, penso alla chiesa francese, tante cose. Poi ti ritrovi che la maggior parte dei siti pedopornografici si trovano in questi territori. Questo non vuol dire mai, però vuol dire avere uno sguardo molto attento. È una realtà molto complessa, le semplificazioni non giovano mai a nessuno. Ed è facile semplificare, perché è sempre la cosa di trovare in qualche modo il colpevole eliminando poi gli altri. Ora, sono elementi che vanno assolutamente affrontati. Certo, non possiamo neanche dimenticarlo, che neppure la chiesa è esente dalla piaga degli abusi. È un modo più assoluto. Non soltanto, anche qui è un altro dato che si dimentica, perché la chiesa non è fatta solo di preti. Anche su questa cosa. La chiesa è fatta di famiglie. I preti rispetto alle comunità sono una piccolissima percentuale. Se è vero che nel 70, facciamo così, stiamo sulle cose internazionali percentuali degli abusi avviene in famiglia, è altrettanto vero che lo stesso avviene nelle comunità intese dalle famiglie che fanno parte della chiesa. se le proporzioni, la statistica, è una scienza. D'altra parte, eppure si può dimenticare che in questi crimini sono stati coinvolti uomini di chiesa, persone che nella chiesa hanno responsabilità. E questo è vero. Una seconda premessa importante è anche questa, che l'azione volta a colpire attraverso legislazioni severe, attraverso mezzi e strumenti che quando parliamo del mercato, evidentemente della pornografia, sono complessissime perché sono a livello internazionale, quindi sono più legislazioni, richiederebbe una collaborazione tra stati, legislazioni molto diverse tra loro. Nelle pieghe, nelle zone d'ombra di queste legislazioni poi si celano in qualche modo questi predatori. È fondamentale, ma non è sufficiente. Non è sufficiente una legislazione più severa. Non è che un codice rosa risolve il problema della violenza alle donne. Basta questo. Non è che definire un crimine certi comportamenti risolve il problema. Se alla base non c'è una cultura. Le due cose, non è che una sia alternativa all'altra, ci mancherebbe, ma o vanno insieme o sono insufficienti. Occorre una cultura, costituire una cultura ed è in mezzi degli strumenti anche legislativi, anche funzionali, anche di indagini, investigativi all'altezza. Allora, in qualche modo è quello che in campo educativo si chiama il passaggio dalla child protection alla safeguarding. Che è interessante, cioè passare dall'idea semplicemente di proteggere in qualche modo il minore a costruire ambienti più sicuri per il minore, della dignità del minore. Che è una cosa interessante perché proteggere semplicemente, poi l'idea, reazione a un crimine. Costruire ambienti più sicuri vuol dire partire prima, vuol dire avere al centro la dignità di una persona e da questa arrivare a prevenire il crimine. In una riflessione stamattina in battute si diceva, ma se io dico a una ginnasta di non mangiare, è un crimine, è un delitto dal punto di vista giuridico, ma attraverso quell'atteggiamento e il tuo ruolo, pensate cose che abbiamo visto anche da noi, quindi noi che puoi consultare, tu piano piano stai facendo una violenza di questa persona. Magari a quel livello dovessimo definire, se è un crimine dire a una ragazza non mangiare troppo perché altrimenti non riesci a rendere dal punto di vista sportivo, può essere non criminale, non facilmente definibile come un delitto. Beh, però dalla tua posizione che cosa vuol dire? È una fama di abuso, la spingi a comportamenti che vanno contro la sua salute. E poi sappiamo cosa succede in questi casi. Cioè lo vedete, questo è un passaggio diverso. Cioè partire in qualche modo da una visione, una impostazione di immediata reazione semplicemente a costruire una cultura. Questa è stata la scelta della Chiesa italiana. Vedete, la scelta della Chiesa italiana è stata questa ed è in qualche modo trova nelle linee guida del 2019 il suo punto di forza. Portare al centro dell'attenzione la formazione. La formazione a tappeto. Non perché la Chiesa non abbia mai fatto formazione. Le nostre comunità non sono all'anno zero. La Chiesa da sempre si è occupata di minori, da sempre si è occupata di più piccoli. Poi sapete, la memoria è sempre corta. Quando arrivano i momenti, sembra quasi che tutti gli orfanti atrofi fossero luoghi di abuso. Quando anche si sente queste cose, luoghi di abuso, sembra quasi che l'ha fatto tutti i danni. Ma se quelle congregazioni religiose non si fossero prese conto, se l'ospedale degli innocenti, dove non pensate, c'erano comunque dei laici impegnati con una grande prospettiva religiosa, c'erano delle sue. Se non si fossero presi cura di questi minori, che fine avrebbero fatto? Se sono in Irlanda, altre cose. Che fine avrebbero fatto? In Australia? In Canada? Perché tutti fanno la svelta per parlare. Ma se non ci fossero state le istituzioni, gli ospedali, le istituzioni civili, nascono un po' dopo. Quello che hanno fatto le congregazioni religiose, piuttosto che le confraternite. Pensate, le confraternite, per la carità, cosa hanno fatto in Italia e non solo. Noi teniamo presente l'Italia. Hanno fatto tutta questa opera. Qui non siamo all'ora zero. I salesiani, l'educazione, penso, tanti altri istituti. Sono state al centro queste cose. Però adesso ci sono delle sfide anche diverse. Che c'è una società che è profondamente cambiata. Allora ecco l'idea di un percorso di formazione che a medio termine, medio e lungo termine, possa consentire di creare ambienti più giusti. Partendo dai nostri ambienti, certo. Dagli ambienti ecclesiali, dalle persone che li frequentano, rivolgendosi così, pensando che se qui si crea una cultura, è anche qualcosa che aiuta l'intera società civile. E questo non è indifferente. Io ormai viaggio da questi anni per tutta Italia e mi sto rendendo conto di come questa scelta si sta rivelando preziosa. Perché? Nella misura in cui, in tutta Italia, calcolate nel report che è stato presentato ieri, abbiamo presentato a Radio Vaticana, alla stampa, il primo report, sui servizi tutela minori della Chiesa italiana. Pensate che cosa ha fatto la Chiesa italiana? Ha costituito in tutte le diocesi un referente. E in quasi tutti qualcosa fa. Ma se non a livello diocesano, a livello interdiocesano, c'è un servizio tutela minori. In soli un anno, due anni, questi due anni, dove sappiamo c'è stato anche il problema Covid, penso che lo sappiate tutti. Io vengo da Bergamo, pensate se non so cosa voglia dire il Covid e cosa sono stati i risultati paralizzanti per tutte le nostre anche istituzioni. Ebbene, sono stati incrociati più di 20.000 operatori pastorali in percorsi di formazione che sono stati doletiati. Questo non è indifferente. Poter dire, per esempio, in questi percorsi, lo dicevo ancora, condividevo con gli amici, pensate a dire in questi percorsi e dare un nome all'abuso. Perché sono delle parole che non si dicono ancora del tutto. Che cos'è abuso? Che certi comportamenti sono abusi. Che gli abusi sono sbagliati. Che fanno male alle persone. Che fanno male alle persone. Io sono prete da 30 anni e dicevo in battuta, vedete, se voi mi chiedeste, ma 30 anni fa una persona che subiva un abuso, l'avrebbe raccontato come oggi, con la facilità di, non è facile neanche oggi, non è mai facile. Però la prospettiva è cambiata. Secondo voi? Uno di Sulmona o qui avrebbe raccontato 30 anni fa una ragazza aver subito abusi in famiglia? O dal pritico, o da qualcun altro. L'avrebbe raccontato. E un ragazzo? Un ragazzo l'avrebbe detto. Perché poi si fa ancora svelto a parlare. Capite anche una rivoluzione culturale, vuol dire dare un nome alle cose. Anche perché, come sappiamo bene, anche il movimento che porta all'abuso, è in qualche modo il grooming, è un percorso che isola la persona, la fa sentire sporca, colpevole in qualche modo. Se è accaduta una cosa è perché l'ho provocato io. Sono delle cose drammatiche. Poi qui ci sono persone che possono raccontare questi dinamismi molto meglio di me. E quindi provare a diffondere una cultura in cui non è quella colpevolezza. È criminale. È criminale. Così non doveva essere fatta. Non sai colpevole quello che è avvenuto. E capite allora cosa vuol dire fare un cammino di formazione su tutto il territorio nazionale, dall'Abruzzo alla Sicilia, alla Sardegna, alla Lombardia, perché non pensate che la cosa sia poi indifferente. Non è perché sono su, giù, eccetera, le cose sono diverse. Gli abusatori ci sono in tutta Italia, comunque gli abusi ci sono ovunque. Però creare una mentalità nella quale dai un nome alle cose. Per esempio, che certi comportamenti non vanno, che vanno anche certe cose riferite, riportate, tirate fuori, fatte emergere. Ma trovare anche dei luoghi che consentano di farle emergere accompagnandole. E non è che basta semplicemente vado a fare una denuncia come se fosse... Pensate il dramma che c'è dietro. Quando poi in una famiglia, per esempio, o in un rapporto di fiducia con qualcuno. Bisogna anche accompagnare. Accompagnare, si arriverà anche a quello, ma accompagnare questi percorsi. Creare, per esempio, i centri di ascolto, che si è mossa su questa cosa. Che non sono sostituivi dalla magistratura, dei servizi sociali. Assolutamente, non è questo. Ma dei luoghi nei quali incominciare a sviluppare, a costruire una mentalità di ascolto, di accompagnamento. Questo grandissimo sforzo, tra l'altro, mi permetto anche di farvi notare, che vede coinvolti nella Chiesa italiana delle grandi professionalità, competenze. Si parlava un po' con la stampa, c'è un po' sempre questa idea che la Chiesa va un po', uso un'espressione bergamasca, Tat al toc. Che vuol dire così, un po' la buona, ma è vero, la Chiesa è aperta a tutti. Ma voi vi rendete conto, guardate il servizio, per esempio, che c'è qui a Sulmona. Ma non è per dire che sono meglio o peggio, però come lavoro, abbiamo competenze, professionalità, che lavorano sul campo. da giuridiche, psicologiche, mediche. Questo non vuol dire, però, competenze, professionalità, a livello di servizio. In tutta Italia è così. Voi provate a immaginare quante centinaia di professionalità in tutto il territorio italiano sono state coinvolte in questo progetto. Diocesi per diocesi. Dalla diocesi Sulmona all'arci diocesi di Milano. Allora, ve lo dico non per dire entusiasmo, però per dirvi la prospettiva e il coraggio di creare una rete globale, una rete globale che entra in questo tipo di attività, di preparazione, di sicurezza, di luoghi diversi per creare una rivoluzione culturale. Dicevo, la conferenza stampa non interessa a nessuno di queste cose, è stata molto interessante, ma era, ce lo aspettavamo. A nessuno interessa il vero lavoro, perché la cosa più interessante sono quante vittime ci sono, numeri, poi più il numero è grande, io li dissi e lo dico anche qua, sono le persone, i numeri, cosa vogliono dire? Sono le persone che contano, sono le storie personali, appunto anche uno è già tanto, è già troppo, è tutti quelli che dimentichiamo di persone. ora questo sforzo enorme che la Chiesa sta mettendo in atto, che vede coinvolti in modo sinodale, questa espressione poi che adesso è un po' di moda, ma perché c'è questo cammino sinodale, che cosa è più sinodale di vedere per esempio questa cosa? Voi immaginate che sui referenti, per esempio, dei servizi, in realtà nelle diocesi più piccole interessante questa cosa, nelle diocesi più grandi generalmente sono preti, i referenti, perché il servizio è un'attività soprattutto formativa. Nelle più piccole, secondo i nostri dati, invece sono laici, che è una cosa un po' inaspettata questa cosa, perché di solito si carica sui preti 40.000 cose da fare, invece le diocesi più piccole in Italia hanno avuto molto più coraggio. Però sui centri d'ascolto, vi faccio questi centri che sono un luogo nel quale accoglie le segnalazioni e vusi in campo ecclesiale o richieste di informazioni, praticamente le tre quarti sono guidate da donne. La partecipazione laicale, ragazzi, è qua che poi si misurano le cose, la capacità di ascolto, un ascolto libero, un ascolto in qualche modo non pregiudiziale, poi questa cosa qui è stata messa in piedi in meno di due anni in Italia e sta funzionando. È vero, alcuni centri non hanno ricevuto nessuna segnalazione, non vuol dire né bene né male, deve una cultura diffondersi, ma al tempo stesso ce ne sono 90 per esempio, se voi considerate che una diocese è anche molto piccola, difficilmente troverà gente che va al centro di ascolto, perché se io vado al centro di ascolto, chi si è anche messo chissà dove, lo sanno tutti. Siete d'accordo? Però io non vado a raccontare cose, preferisco andare in un posto da un'altra diocesi, quindi, oppure un posto un pochino più lontano, magari quei 20-30 km, però ecco perché per esempio, Lombardia, Lombardia ovvio che abbiamo diocesi come Crema, come Lodi, diocesi molto piccole, Fidenza, se lo siamo giù in verità, però poi cosa si fa? Si fa un centro unico, magari una persona che si sposta, dando la possibilità alle persone che vogliono segnalare di incontrarle in un'altra diocesi, in un'altra sede, in modo che siamo più libere, perché è l'ascolto che diventa prioritario, cammini di formazione che vengono in qualche modo condivisi. Ecco, vi segnalo queste cose, questa decisione presa 2019, in meno di due anni è diventata un sistema di cui noi stiamo già vedendo, per esempio oggi, uno degli effetti, perché tra l'altro uno degli effetti importanti è proprio questo, creare rete, non solo all'interno, ma anche all'esterno, sono qui i dati importanti. Dicevo, tra gli altri, è vero, anche queste linee guida poi suggeriscono ulteriori elementi, la tutela delle persone, l'accoglienza, la responsabilizzazione comunitaria, la formazione, la giustizia, la verità, anche qui vorrei, come dire, è comprensibile, è comprensibile che possono esserci dei comportamenti non sempre adeguati, a volte per esempio, però la linea è molto chiara, è molto chiara, per quanto riguarda delitti di questo ambito e in ambito ecclesiale. non c'è nessuna protezione, non c'è nessuna volontà di complicità, dove c'è, è sbagliata ed è punibile. Questa cosa qui molte volte la si dimentica, però è molto semplice, se c'è un delitto che viene commesso, nessuno impedisce al segnalante, alla persona che segnala, di rivolgersi all'autorità giudiziaria, anzi noi al contrario, incoraggiamo, che è anche una spinta anche forte, incoraggiamo, le persone prendono posizione, perché non ci poniamo? Non possiamo contrapporci alla volontà delle persone. Si discuteva con alcuni amici francesi dove la legislazione locale prevede in Francia e in alcuni stati dell'Australia o Canada, prevedono che l'obbligo di denuncia a chiunque venga a conoscenza di informazioni denunciate, che ha una ragione d'essere, ovviamente non è fatto solo per la Chiesa Cattolica, ma è fatto per chiunque, però per esempio pone un problema, questa cosa, perché per varicare sulla volontà delle persone, a parte che in Italia voi sapete, se non sei un pubblico ufficiale, non hai l'obbligo di effettazione, un pubblico ufficio, eccetera, non hai questo obbligo, perché la legislazione italiana è molto attenta su questi obblighi di denuncia, limita molto ad alcune situazioni molto particolari, per non creare poi un clima, un clima anche in qualche modo negativo, anche per la stessa amministrazione giustizia, ma capite, lì è la volontà della persona di la perfetta libertà di potersi riferire. Ma che cosa succede in questi paesi? Che chi non vuole, non vuole un coinvolgimento, ma anche magari per le ragioni buone, non si rivolge più da nessuna parte, perché dice tanto andare da una parte o dall'altra la stessa cosa, ma se io ho quello che non voglio, quello, invece la cosa più importante, a meno anche, guardate questo piccolo particolare per noi, è quello di fare emergere, non deve stare nascosto, perché quella ferita lì continua a supporare, quella ferita lì continua a far male, e non è una ferita solo sulla persona, è sulla società, è su quella comunità, è vero, per esempio, ma anche qui il coraggio della scelta italiana di dire se io vescovo mi ritrovo per esempio una situazione in genere e purtroppo ci sono state. Vi racconto queste situazioni, ma per capire a volte le questioni che anche qui si affrono, c'è stato due o tre casi in Italia recentemente di questo tipo, si sono rivolti al vescovo alcune persone chiedendo guardi, il nostro figlio è abusato dal prete, e va bene, lei ci paghi così noi stiamo zitti, così brutalmente, non facciamo la poesia sulle cose. Va bene, però il vescovo apre la procedura di autonica, noi non è, che cosa succede? E succede che il vescovo dice, beh, che devo fare? No, dice, segnalatelo all'autorità giudiziaria, lo segnalate all'autorità giudiziaria, perché questo io non ho neanche i mezzi, cioè capite, anche a volte non è che il vescovo possa andare là con le cimici, andare a mettere le videocamere, fare cose, si basa sulla segnalata all'autorità giudiziaria, eccetera, che è una cosa molto grave, se questo, no, noi non lo segnaliamo, ovvio che non lo segnalavano, perché erano i primi a vendere i figli. Che cosa si fa? Le linee guida della Chiesa italiana prevedono, in casi come questo, che purtroppo, perché smettiamola di far finta di non vedere, purtroppo avvengono, pochi, ma avvengono in cui sono gli stessi genitori responsabili, o a far finta di non vedere o essere complici. La linea Chiesa italiana è quella, nelle modalità più opportune, un minimo di verifica, giustamente, se parliamo di preti, in questo caso, parliamo di ambito ecclesiale, di preti che non abbiamo competenza fuori, se il bene del minore è in gioco, trasmetterà la segnalazione arrivata all'autorità giudiziaria. è un privaricare in qualche modo sulla volontà delle persone, ma il bene del minore era solo per dire anche su queste cose, non è vero che la Chiesa manchi di coraggio, neanche, poi questo non vuol dire che gli sbagli non si fanno, anzi. E poi va bene, le linee insistono poi soprattutto su quel cammino formativo di cui ci siamo detti e che ha trovato questa strutturazione nel servizio nazionale, nel servizio regionale, nel servizio diocesano, e soprattutto in questi percorsi, dicevo, l'obiettivo di questi percorsi formativi che stanno avvenendo, noi lavoriamo molto per esempio non soltanto sulle raccontare, descrivere gli abusi, dare un nome all'abuso, dare un nome alle condizioni dell'abuso, dare un nome ai percorsi che portano all'abuso. È interessante che nei casi che abbiamo rilevato in questo biennio, che sono proprio l'inizio, rivolti ai centri di ascolto, sono su 30, su 90 centri attivi, solo 30 in realtà hanno raccolto segnalazioni, questo è stato iniziato, sono i primi passi, pensate che più di un terzo riguardano non delitti, ma riguardano atteggiamenti impropri, che è una cosa molto vaga in verità, perché contiene molte cose, però per noi è interessante, perché sta a indicare che la sensibilità aumenta e riuscire a lavorare molto su questo è per noi prioritario, perché lavorare su ciò che precede il crimine, non è che arriva subito il crimine, non è che arriva il pedofilo e a un certo punto prende, molte volte, per chi è esperto nella materia, la conosce, non è che abbiamo una serie di pedofili seriali, tutti, abbiamo altre, è molto vasto il campo, riuscire a arrivare all'atto in sé abusante, sessualmente ha un percorso, ha una strada, parte da lontano, c'è l'avvicinamento, c'è l'isolamento, c'è tutta, se tu lo precedi, se tu riesci a bloccare questo percorso prima, prima di arrivare, salvi una vittima, perché dopo, quando ormai uno ha subito un abuso, è molto difficile, cioè è molto difficile, non si può più recuperare quello che era prima, lo devi fermare prima, ecco questo per esempio è un aspetto molto interessante, imparare a riconoscere, a farsi aiutare, anche questo, oggi qui avremo anche persone esperte, questo lavoro di rete è preziosissimo anche per questo, sapere a chi dire cosa, molte volte le persone non sanno a chi dire cosa, trovare dei percorsi di accompagnamento, noi stessi a volte siamo trovati a accompagnare persone o a consultori, ai servizi sociali, per arrivare ad affrontare alcune cose, però è un lavoro che si costruisce insieme e insieme le buone prassi, una cosa che per esempio sulle quali stiamo lavorando moltissimo è attivare dei percorsi di responsabilizzazione nelle comunità, c'è una rete evidentemente di attività parrocchiali, pensate alle parrocchie, in Italia in molte parrocchie, ci sono associazioni, azione cattolica, il resto che lavorano con i minori, da noi per esempio sono molti fusi gli oratori, i centri giovanili che molte volte hanno ragazzi, hanno sportive, hanno, allora capite che lì impari in modo che i nostri operatori imparino ad assumere, a vedere, a leggere situazioni e a domandarsi che cos'è più educativo, meglio per i ragazzi? Certe cose che imparare a vedere non con la sospettiva che dobbiamo evitare, ma con la sospettiva cos'è il meglio per? Che passa dall'avere un ambiente più sicuro dalle strutture, perché anche quello, a rispetto delle norme strutturali, piuttosto che a quelle attenzioni educative, spazi giochi adeguati, luoghi, progetti adeguati, sono cose che sembrano minimali, ma è importante il ragionamento, capite? Se io faccio un gioco in un posto che è pericoloso o un gioco che è adatto per ragazzi grandi e non per ragazzini piccoli, penso all'attività sportiva, quanto questo è, non fa bene al bambino, no, safe cutting, ragionare così nella nostra programmazione, rendendo le persone responsabili, perché funziona anche qui la solita delega come avviene spesso in Italia e da altre parti, colpa del governo, ma certamente è sempre colpa del governo, su quello stiamo sicuri che è colpa del governo, colpa del vescovo, colpa del parroco, è sempre colpa di qualcun altro, ma noi, alla nostra parte, allora imparare a dire noi operatori pastorali, noi che siamo i catechisti, operatori in questa cosa, animatori, programmiamo, progettiamo insieme, verifichiamo cosa è il meglio, questo diventa essenzialmente una cosa interessante, utile. vi segnalo e concludo perché giustamente i tempi se non rischiano di prolungarsi molto. Questo approccio italiano che pure ha questo sguardo molto più generale, molto più attento e non esclude ovviamente gli altri le ricerche, le cose saranno in atto anche delle ricerche, però multiparametriche nel senso l'idea è quella anche di ricercare i dati non con un minestrone. Penso alcuni paesi hanno sviluppato delle ricerche molte volte a minestrone, quindi mettendo insieme dati molto diversi tra loro, su schemi proiettivi che in campo evidentemente sociologico statistico hanno il loro valore ma hanno anche delle fragilità se non sono ben chiari i termini di una ricerca. Ci sono varie ragioni anche perché calcolate che in battuta diceva qualcuno una ricerca una ricerca a Siria in campo statistico e non è così semplice ed è molto costosa e costarono per esempio alla chiesa degli Stati Uniti costarono 50 milioni di dollari la prima grande ricerca quindi capite quella francese costa solo un milione di dollari di euro che è insufficiente per fare può essere una banalità però capite che questo determina anche poi i risultati e richiede letture la scelta italiana è quella invece di una serie di studi focalizzati da questo punto di vista quindi con anche istituzioni enti ovviamente indipendenti autonomi ma focalizzati precisi localizzati in modo da unire dei dati in un quadro complessivo l'ultimissima tutta è questa l'approccio italiano che è un approccio culturale globale generale è stato quello che la pontificia commissione ha chiesto di attuare in diversi paesi del mondo mi spiego c'è una pontificia commissione adesso presso il di castello per la dottrina della fede che è composta da personalità a livello internazionale pontificia commissione tutela minore dove c'è un unico italiano tutti gli altri ovviamente sono stranieri sono esperti in campo di protezione ai minori per dare delle indicazioni alla chiesa universale ora con chi hanno scelto di fare un progetto per i paesi per esempio chiamiamolo in via di sviluppo che è un'espressione ormai infedicissima chiamateli come volete dove è più faticoso impostare in modo globale una linea l'hanno fatto con la chiesa italiana perché? perché l'approccio personale l'approccio culturale l'approccio rivolto a creare una cultura ma anche tenendo conto della realtà muovendola passo per passo l'approccio personale è sicuramente molto più efficace che un approccio aggressivo dove tu imponi un tuo modello culturale provate a immaginare alcuni paesi dell'Africa dove tu arrivi improvvisamente a imporre un modello tedesco o la lettura che in Germania tu puoi avere le cose che non è la stessa non ho perché sia sbagliato cattiva perché ci sono anche si raccontavo ad alcuni alcuni amici il mio incontro con i vescovi delle regioni dell'Arabia sono i vescovi latini delle regioni dell'Arabia quindi comprendono dal nord Africa appunto l'Arabia Saudita gli Emirati dove ci sono alcune comunità cattoliche non in Arabia ma negli Emirati è possibile ecco allora non è che si possa andare là e dire le nostre impostazioni esistono le leggi tribali in quei paesi in quei paesi il ruolo della donna è legislativamente inferiore a quello dell'uomo quindi non è che esista dire questo già dire che una donna ha lo stesso trattamento dell'uomo nelle linee guida di queste conferenze è già in qualche modo un'eccezione è solo per dire che anche in uno sguardo internazionale la chiesa internazionale deve sempre avere l'accompagnamento delle culture il valore è sempre quello la protezione della persona bisogna incarnarlo nelle culture prenderle per mano e accompagnarle è il grande sforzo che stiamo cercando di fare io credo che non scomparirà la piaga degli abusi purtroppo purtroppo questo è un male che la storia ci insegna che ti resta però abbiamo il dovere morale a volte sento un po' di scoraggiamento come a volte succede ma tutto quello che si è fatto poi si ripetono cose io penso un po' anche a questa cosa cioè ogni vita che salvi ogni possibilità che dai a una persona ogni cammino che ricostruisci ogni ogni persona che in qualche modo impedici questo ogni volta che fai qualcosa di buono hai già fatto tanto un uomo vale il mondo intero grazie ok allora grazie don Gianluca per queste riflessioni in modo particolare vorrei un po' prima di passare la parola alla dottoressa Tatiana D'Ambrogio soffermarmi sul discorso della rete che poi riprenderemo nella tavola rotonda questa rete interna all'interno della chiesa nazionale e mondiale per la tutela dei minori che si interfaccia con una rete istituzionale quindi la possibilità di mettere insieme in modo sinergico questa pluralità dei linguaggi che mettano al centro non solo un discorso di tutela post facto diciamo così ma tutto quello che ci consente poi di fare prevenzione che è l'obiettivo fondamentale non solo delle linee guida ma anche a livello istituzionale approcciare una modalità preventiva che parta dalla sensibilizzazione dalla formazione dall'informazione ma che soprattutto dia la possibilità alle persone di riconoscere cioè conoscere per poter riconoscere questo credo che sia fondamentale quindi l'integrazione oggi lo abbiamo messo qui insomma in questo tavolo proprio come obiettivo centrale credo che questa sia forse la scelta più più funzionale perché la complessità del fenomeno richiede anche una risposta complessa quindi grazie grazie per per questi spunti di riflessione ok passiamo alla dottoressa Tatiana D'Ambrogio dirigente medico presso la neuropsichiatria infantile dello sviluppo adolescenziale territoriale della ASLU Avezzano L'Aquila Sulmona docente a contratto presso l'università di L'Aquila esperta sui disturbi dell'ospetto autistico e psicoterapeuta infantile che ci presenterà una relazione sugli effetti neurobiologici del trauma da maltrattamento e da abuso sessuale nell'infanzia il suo intervento si intitola L'impronta del trauma conseguenze neurobiologiche del trauma grazie grazie Lucia grazie a tutti voi per la presenza e ora mentre ascoltavo la bellissima relazione di Don Marchetti riflettevo un pochino no anche su come no su su quanto lavoro un punto di rete c'è stato quindi voglio ringraziare Lucia veramente dello spirito dell'energia con cui ci ha coinvolto a volte nelle istituzioni presi dalle tante cose è difficile a volte fermarsi a pensare questo è stato sicuramente un momento di pensiero di riflessione di studio quindi voglio anche ringraziare tutte le persone del servizio soprattutto Federica Di Gregorio l'assistente sociale che ha fatto un grande lavoro anche di bibliografia insomma per arrivare poi alle riflessioni alle tante riflessioni che stiamo facendo e quando abbiamo iniziato a buttare giù la scaletta io mi sono voluta prendere anche questo compito di tenetevi forte alle sedie perché insomma andrò veramente non sulla neurobiologia ma questo perché riagganciandomi un po' a quello che stava dicendo Don Marchetti noi dobbiamo fare formazione e quando significa fare formazione significa anche capire che cosa può fare un trauma sul cervello cioè non stiamo parlando di un qualcosa che passa ecco non si supera mai ma non si supera mai anche perché c'è effettivamente un qualcosa di biologico che viene leso a volte non dico per sempre perché fortunatamente abbiamo sempre più degli strumenti ovviamente strumenti che andrebbero attivati precocemente dopo il trauma a volte invece proprio perché non è facile emergere il trauma arriviamo al trauma dopo tanto tempo quando degli effetti purtroppo già ci sono stati e quindi come diceva Lucia formarsi e avere queste informazioni significa anche non solo perché come dire l'impronta neurobiologica è qualcosa di cui ci occupiamo noi sanitari no come dire in un certo senso dopo che è avvenuto ma sapere che questo può avvenire è una cosa che voi dovete sapere perché quando si dice anche diciamo nel maltrattamento vabbè ma si è sempre fatto così no prima diceva giustamente ma 30 anni fa no si sarebbe segnalato probabilmente no ma fortunatamente siamo andati avanti fortunatamente siamo qui e in maniera più trasparente riusciamo a dire cos'è abuso all'infanzia cos'è maltrattamento all'infanzia e adesso e questo è il mio intervento sappiamo anche che conseguenze può avere proprio in termini di sviluppo quindi appunto vi porterò all'interno del nostro cervello questo per dirvi cosa che quello che noi chiamiamo maltrattamento abuso può dare un'impronta proprio in termini di modificazioni neurobiologiche io non sono di natura sono una che non voglio passare come la neurobiologista in cui vuole andare a indagare nel cervello per forza però quello che adesso ne sappiamo delle neuroscienze lo dobbiamo utilizzare per capire meglio gli effetti per spiegarlo per parlare con le persone con cui incontrate proprio per dire guarda che non è così perché queste cose lasciano un segno indelebile quindi questo lo sappiamo perché le neuroscienze come vi dicevo oramai ci fanno capire bene come funziona il nostro cervello noi oramai abbiamo la capacità io quando mi sono laureata se no conoscevamo il cervello nelle sue strutture anatomiche adesso sappiamo come siamo il connettoma sappiamo proprio come funzionano le fibre quindi adesso sempre più ovviamente abbiamo contezza di come effettivamente funziona come si vengono a costruire le informazioni all'interno del cervello ci sono tantissime ricerche sull'attaccamento che poi insomma affronteremo meglio perché quello che diceva Don Marchetti è vero la maggior parte degli abusi avvengono in famiglia quindi vanno ad intaccare quello che è proprio lo sviluppo diciamo dell'attaccamento e quindi gli eventi traumatici oramai noi sappiamo che vanno ad alterare la funzione del nostro connettoma e quando questo avviene in età evolutiva c'è il rischio proprio di un'alterazione proprio dell'architettura del nostro del cervello in formazione prima si diceva appunto che c'è stato nel tempo anche una come dire una definizione sempre più ampia ma perché più definita del concetto diciamo di abuso e di maltrattamento sui minori cioè andando a definire tutto ciò che va a ledere la dignità del bambino bambino come persona bambino adolescente soprattutto questa è una frase insomma da sottolineare nell'ambito di una relazione di responsabilità fiducia e potere perché poi nei maltrattamenti negli abusi insomma che siamo affrontando c'è sempre una posizione squilibrata c'è un adulto e c'è un bambino e questo rende l'abuso poi veramente nel mettere il bambino in una condizione di inferiorità anche proprio pensate al parlare a dire a segnalare quello che è accaduto cioè solitamente un adulto e quindi questo rende tutto più difficile le classificazioni della simpia mette in evidenza tutta una serie diciamo di condizioni che rientrano le definizioni diciamo di abuso ma ritornando a quello appunto che si diceva prima dal mio punto di vista dal punto di vista della letteratura è importante fare un distinguo importante tra chi commette il trauma perché ci sono i mostri quindi i traumi extra familiari questi spesso hanno la caratteristica possono essere assolutamente e sono deleteri assolutamente sullo sviluppo diciamo del cervello assolutamente non voglio dire questo ma solitamente sono isolati oppure sono commessi e sicuramente sono commessi da persone che non sono affettivamente significativi lasciano un trauma lasciano un'impronta però anche in termini terapeutici a volte è più facile lavorarci perché come dire tu puoi aiutare quel bambino quell'adolescente o anche quell'adulto a lavorare sul fatto che questo è stato con me cioè piano piano a rilavorare sul potersi fidare del mondo perché in realtà è un evento che è accaduto in una situazione in cui prima questa persona aveva una visione diciamo del mondo che gli permetteva di potersi fidare quando i traumi sono intrafamiliari appunto sono fatti da persone di fiducia allora raramente sono isolati nel senso che è difficile che una persona maltrattante intrafamiliare lo sia un inunico episodio solitamente sono episodi che si ripetono nel tempo quindi c'è diciamo un verificarsi nell'arco temporale e raramente sono singoli difficile che un genitore maltrattante sia un genitore che non possa fare neglect anche quindi incurio o quant'altro quindi solitamente ci sono più forme di abuso che si vanno diciamo a sommare ma la cosa più grave sono commessi da persone significative emotivamente e affettivamente significative per quel bambino per dire come no questo è ovvio che è una cosa che viene da una persona che per te conta è più deleterio però ve lo voglio spiegare proprio su come si sviluppa e funziona i nostri modelli di attaccamento tutti noi abbiamo avuto quelle mani che sono le mani insomma delle figure del caregiver delle figure diciamo di attaccamento che ci hanno aiutato ad esplorare il mondo quindi aiutandoci attraverso le competenze genitoriali utili a sostenere l'esplorazione del mondo vedete nel quadratino sopra bianco sorveglia mi ammirami aiutami divertiti con me ecco queste sono tutte le competenze per aiutare un bambino a crescere pensando che là fuori c'è un mondo per cui vale la pena conoscere e di cui insomma come dire è bello esplorare e tu hai le competenze per farlo un genitore sufficientemente adeguato riesce a sostenere il bambino nel riuscire a fare questa cosa d'altro canto nella parte di sotto del cerchio vedete quello che si chiama il porto sicuro un bambino che è in difficoltà un bambino che ha paura un bambino che si è fatto male un bambino che si trova in delle situazioni di difficoltà sa che può avere sempre un genitore un caregiver o qualcuno che ha un porto sicuro quindi qualcuno a cui andare ottenere consolazione gli abbracci fare una ricarica affettiva quando si verificano situazioni di questo tipo questo tipo questo tipo ovviamente questo circolo chiamato della sicurezza che è quello che porta un bambino nella sua crescita a sviluppare un attaccamento ma che poi si sviluppa in modelli operativi interni che cosa intendo per modelli operativi interni intendo come io costruisco la mia idea di mondo la mia idea di persona la mia idea di potermi fidare degli altri potermi affidare ricevere consolazione e quant'altro quando io ho vissuto queste esperienze sono quelle che si verificano nelle famiglie maltrattanti nelle famiglie abusanti tutto questo diventa difficile tutto questo noi lo chiamiamo e qui vedete questi sono i vari tipi gli stili diciamo di attaccamento noi lo chiamiamo attaccamento disorganizzato attaccamento disorganizzato significa che il bambino dentro di sé non ha strutturato una idea di se il genitore ci sarà se ci sarà per lui se lo menerà oppure questa volta non lo menerà cioè vivrà in una costante sensazione di tensione in una costante sensazione di incertezza e tutto questo ovviamente ha degli effetti neurobiologici molto importanti vedete il bambino sopra è un bambino sicuro un bambino socialmente ingaggiato che riesce a vedere il mondo come un qualcosa di sicuro in cui io posso andare incontrere delle persone buone o cattive però avrà sviluppato degli strumenti per riconoscere le persone cattive perché sono diverse dal mondo a cui lui è abituato quindi è un bambino che è un bambino e un adulto no? perché noi stiamo parlando di come i traumi lasciano un'impronta che accompagnano quella persona purtroppo verso la non salute mentale allora come vedrete come quindi stavo dicendo la sicurezza è qualcosa che accompagnerà questa persona il bambino nella scaletta quello intermedio è un bambino in cui c'è un'attivazione simpatica detta simpatica ma simpatica non è che sono le reazioni di fight and fight cioè scappa o fuggi attacca o fuggi cioè sono quelle situazioni che si sviluppano quando c'è una sensazione di pericolo questo è dal punto di vista neurobiologico mediato quindi questi sono bambini che hanno l'arousal molto attivati sono bambini molto irritabili sono bambini ma lo sono anche fin da piccoli se questi traumi si sviluppano fin da piccoli quindi sono dei bambini spesso irritati irritabili sono dei bambini ansiosi sono bambini molto disregolati sono bambini che li vedi anche piccolini che hanno paura del mondo o comunque lo sfidano no? in questa ambivalenza sotto vedete l'attivazione del nostro cervello più primordiale la strategia che viene utilizzata quando pensi che non c'è più niente da fare che morirai sapete l'opossum chi ha no? l'opossum che quando pensa che morirà perché è attaccato dal cane del deserto si finge morto ecco questi sono bambini che si spengono perché è come se non avessero più la speranza non avessero più la capacità di immaginare di poter avere delle reazioni e da qui spesso possono prendere e poi ce lo spiegherà bene la collega Sirolli le forme psicopatologiche diciamo quelle più severe quindi abbiamo detto come il trauma va a modificare il nostro sistema neurobiologico e questo ve lo voglio dire ancora un pochino più specificatamente a seconda dell'età di quando si verificano i traumi il cervello ha delle aree cerebrali maggiormente esposte quando per esempio si verifica nei primi anni di vita gli eventi traumatici soprattutto un'area che si chiama ippocampo che è l'area della memoria l'area deputata all'apprendimento va incontro a una riduzione di volume noi spesso infatti ci troviamo dei bambini che hanno dei deficit di apprendimento che hanno dei ritardi importanti nelle acquisizioni proprio perché quell'area è come se non riuscisse talmente sono le memorie traumatiche che deve trattenere all'interno che non riesce ad incamerare nuove informazioni per progredire nel ritmo diciamo di sviluppo un'altra area assolutamente importante è proprio l'effetto che può avere sull'amigdala che è del nostro sistema limbico è quello che giustisce le nostre emozioni quando come dire ci sono degli eventi traumatici che vanno ad incidere su queste aree cerebrali questi ragazzini come dicevamo prima hanno un erosale attivato quindi sono costantemente in ansia hanno tutti quegli effetti di disregolazione ma c'è una base neurobiologica dietro cioè quando si innescano queste situazioni come dire è molto difficile tornare indietro molto difficile tornare indietro in ultimo gli effetti che il trauma può avere quando si verifica nell'età adolescenziale quella è un'età in cui di natura c'è una maggiore disregolazione emotiva perché si sta sperimentando gli ormoni e quant'altro in questa età spesso un verificarsi diciamo di un trauma va a determinare un aumento diciamo di questa disregolazione emotiva spesso e questa è un'età già delicata di per sé c'è l'assunzione delle sostanze perché lì per lì diventa la prima cosa che ti aiuta di più perché come dire se c'hai tantissima ansia e usi le canne effettivamente lì per lì stai meglio quindi noi spesso nei ragazzi che aggiungono con abuso diciamo di sostanze andiamo sempre a cercare di vedere se non c'è dietro una psicopatologia che effettivamente spieghi la loro necessità quindi a volte non è una cosa ludica l'assunzione delle sostanze se si può definire tale ma è una necessità di come dire abbassare l'attivazione del sistema nervoso e quindi abbiamo detto che i cambiamenti ci sono proprio a livello neurobiologico cambiamenti della connettività cerebrale oltre come dire oltre una coazione a ripetere è ovvio che se una persona se un bambino ha vissuto determinate esperienze e ecco la società non riesce a mostrargli modi diversi di comportarsi il rischio di pensare che quella sia la normalità è evidente è frequente cioè nel senso se questo è quello che io ho esperito probabilmente il bambino può pensare che questo è quello che è a volte ragazzini quando vengono messi in situazioni di protezione e sperimentano delle modalità educative delle modalità di diverse rimangono sorpresi inizialmente quasi non ci si riconoscono perché dico ma come ma non mi meni ma come non no questo significa l'impronta perché quando qualcosa viene vissuto esperito per tanto tempo è come se nel nostro cervello si facesse una specie di binario è come se tu poi ritornassi su quel binario perché è la strada che tu conosci di più e oramai sappiamo tantissimo che i traumi sono un indicatore di vulnerabilità per i disturbi della salute mentale questo è oramai evidente quindi prima stiamo parlando tanto ovviamente di formazione di fare tutta quella formazione per far emergere i traumi ma poi la cosa importante quindi va dato insomma questa rete che stiamo cercando di costruire poi la presa in carico perché è importante che queste persone dopo l'ascolto l'emersione dei loro vissuti possano avere una risposta e a volte deve essere una risposta terapeutica a volte non deve essere diretta al bambino a volte all'ambiente familiare però una risposta ci deve essere perché altrimenti questo trauma rimane lì nel cervello e determina diciamo degli effetti non solo a breve ma anche a lungo termine vi ho messo stiamo arrivando alla fine e questo per dirvi cosa spesso un effetto molto frequente che si verifica nel trauma quindi sono anche operatori dell'ospedale e quant'altro quando arrivano ragazzi traumatizzati spesso non riescono a parlare del trauma allo stesso tempo ecco Shakespeare pure nel Macbeth lo diceva parlava del terrore senza parole questo perché anche qui c'è un aspetto neurobiologico che lo spiega l'evento traumatico determina una disconnessione tra i due emisferi proprio una disconnessione nel senso che non si parlano più le due cortecce e questo infatti qui nella risonanza nella pallina sulla destra quello è l'area di Broca l'area del linguaggio che è ipoattivata quindi questo è spesso è alla base della spiegazione del disturbo post-traumatico da stress che cosa succede lì l'emisfero destro manda informazioni prevalentemente sotto memorie visive ma l'emisfero sinistro non ha parole per riuscire a spiegare tutto questo perché non è attivato quindi ovviamente e qui l'ho citata ma poi insomma non è questo ovviamente la serie però per dirvi che adesso noi abbiamo anche delle tecniche per riuscire a lavorare ovviamente sul trauma per esempio una tecnica è questa qui dell'andr dove noi cerchiamo di far capire a quella persona che il trauma è qualcosa che è passato perché è come se allora se questa cosa non si può elaborare è come se fosse in un eterno presente le persone hanno flashback costanti tu ci stai parlando e dici che cosa sta accadendo e ti ripeto e vive quella memoria traumatica senza poterla disattivare come se stesse accadendo in quello specifico momento quindi noi adesso abbiamo delle tecniche che permettono di curare il trauma proprio anche a livello diciamo neurobiologico e questo permette di ridare sollievo a persone che vivono un'angoscia e un terrore costante oltre piano piano attraverso la psicoterapia a ristrutturare la loro visione del mondo perché questo se non viene fatto da vita a quello che è qui insomma sembra un albero bellissimo in realtà ogni foglia di questo albero sono i possibili esiti psicopatologici degli eventi traumatici vi ringrazio e passo la parola grazie dottoressa Tatiana D'Ambrogio ti chiamo Tatiana grazie Tatiana perché ci ha detto in parole semplici qualcosa che è veramente complesso e complicato in particolare quanto è devastante il trauma dell'abuso e del maltrattamento nell'infanzia pensavo mentre parlavi all'assenza delle parole al non avere le parole e di come questa memoria traumatica sia continuamente presente questo noi che lavoriamo nella clinica lo rileviamo costantemente quanto è necessario tornare ritornare ricucire riparare mettere la parola come elemento che lenisce che cura le ferite questo è fondamentale e per fortuna lo possiamo dire nella grande sfortuna il nostro cervello è plastico e quindi attraverso la cura la la riabilitazione il recupero è possibile mettere parola ed è possibile riparare quindi questo dà come dire una importanza cruciale non solo alla prevenzione perché lavorare sulle famiglie sui genitori sugli educatori su chi si occupa di minori significa lavorare affinché questo non accada ma nello stesso tempo poi mettere parola lavorare lenire le ferite significa dare una chance una possibilità che quel trauma non è definitivo in assoluto non si potrà dimenticare questo ci dicono i pazienti che non lo puoi dimenticare ma puoi fare qualcosa con quel ricordo e dargli un nuovo senso nella tua storia e questo è fondamentale e in questo insomma questo mi consente di agganciarmi con la dottoressa Arianna Sirolli che è psicologa psicoterapeuta verso il servizio di neuropsiciatria infantile e dello sviluppo adolescenziale territoriale di Sulmona e psicodiagnosta clinico e giuridico peritale e CTU presso il tribunale di Sulmona e di L'Aquila quindi la dottoressa Sirolli ci parlerà invece delle conseguenze psicologiche sui minori del trauma da maltrattamento e abuso sessuale ci sono allora innanzitutto grazie di essere rimasti attenti e vigili in un argomento effettivamente pesante pesante e che va inevitabilmente affrontato a più mani e in questo vorrei fare un ringraziamento speciale ai padroni di casa perché insieme possiamo iniziare a sollevare quello che è il velo non il velo dell'omertà lavorando lavorando insieme con le istituzioni e lavorando insieme con tutti i sistemi che collaborano per i minori sarò breve cercherò di essere poco tecnica ma un po' di tecnicismo me lo dovete consentire come mi dovete consentire un po' di azione provocatoria perché alla fine a metà giornata abbiamo bisogno di un po' di provocazioni per capire anche e un pochino ristabilire quel sistema cerebrale di cui ha parlato la mia collega questi sono dei dati che tanto piacciono ai giornalisti ma di tutti questi dati quello che mi interessa di più e che vorrei portare alla vostra attenzione è che il 70% degli abusi di qualsiasi genere dall'abuso sessuale alla trascuratezza maltrattamenti stalking e via discorrendo è sommerso cioè significa che non arriva alla nostra conoscenza non arriva all'autorità competente e quindi ci impedisce di fare un determinato tipo di lavoro prima avevate parlato insomma il dottor Marchetti ha parlato anche di quella che è effettivamente la difficoltà nell'ascolto ma di un ascolto competente di un ascolto attivo di un ascolto effettivamente formato e soprattutto di chi va a denunciare cosa il 30% arriva a segnalazione perché forse ce lo dobbiamo chiedere forse no è una frequenza sommersa sono tutti sottostime è un iceberg noi vediamo spesso solamente segni e sintomi come diciamo nella pratica clinica ma sotto c'è un mondo hanno cercato di identificare quelle che possano essere le cause del dato sommerso cioè anche una carenza di privacy come si diceva poco anzi un'inosservanza poi dei doveri di legge anche ai fini culturali cioè non si conoscono non si conoscono i doveri di legge io come pubblico ufficiale sono costretta sono per legge portata a fare rapporto a fare referto se sono una libera professionista nella mia stanza ma che significa che comunque terrò in considerazione la tutela del minore ma io ho l'obbligo morale civile e professionale di rendere giustizia cioè di portare allo sguardo della giustizia quello che sta accadendo sicuramente c'è un'elevata affluenza dei pazienti di pronto soccorso per cui spesso non viene identificato il vero problema soprattutto in questi periodi di covid poi è particolare il rapporto uno a uno lo scetticismo ma il più che altro e questo è un punto importante e uno dei motivi per quale siamo qui la formazione non siamo formati e in quell'ascolto di cui prima è fondamentale anche un rispetto delle competenze sia all'ascolto sia all'accoglienza e un rispetto della legge c'è un iter da seguire c'è un iter perché perché è importante che quel bambino venga ascoltato in una determinata maniera con i professionisti per far partire un iter e poi subito una presa in carico tempestiva dai professionisti spesso siamo armati da tante buone intenzioni e chiediamo chiediamo ai bambini ma che succede forse dobbiamo formarci prima perché c'è un danno di atrogeno una vittimizzazione secondaria che invece può causare poi dei danni da un punto di vista psicologico psicobiologico ma lo vedremo dopo questo l'ho voluto inserire proprio perché perché è uno dei ponti fondamentali cioè uno degli abusi insospettabili quelli che noi non pensiamo mai possano verificarsi abbiamo parlato di violenza assistita abbiamo parlato di negletta trascuratezza ipercuria discuria maltrattamenti di ogni genere abuso sessuale esposizione ad atti pedopornografici ma la sindrome di alienazione genitoriale perché l'alienazione parentale in realtà è una traduzione errata dalla lingua inglese cioè parenting il parenting la genitorialità non è un concetto clinico è un concetto giuridico cioè significa che quando uno dei due genitori che si è separato strumentalizza e qui entra il clinico cioè triangola il bambino per attaccare l'altro sta effettivamente mettendo in atto un'aggressione un'aggressione allo psichismo del bambino una deformazione della realtà e qui entra in gioco la legge con delle sentenze della Cassazione non me ne vogliate i tecnici soprattutto chi ne capisce meglio di me che sono anche abbastanza importanti cioè un affido esclusivo anzi esclusivissimo alla controparte cioè al genitore non dominante perché? perché ci deve essere il libro accesso alla bigenitorialità mamma e papà sono entrambi importanti anche questo è una forma di abuso però oggi parliamo di quelle che sono le conseguenze psicologiche di un abuso sessuale di un maltrattamento di una ferita qualche collega l'altro giorno ha detto le botte spaccano e è qui in sala e io sono molto d'accordo con la mia collega le botte spaccano l'identità frammentano la violenza frammenta e frammenta l'integrazione identitaria il corpo diventa poi il deposito di quelle che sono delle ferite che si vanno a strutturare in traiettorie evolutive di vario genere viene perturbato il rapporto tra sé e l'altro viene preso completamente di mira il rapporto il sistema di protezione e cura non viene più messo in pratica non può essere quello perché chi mi doveva proteggere e curare o ha colluso e quindi ha chiuso gli occhi non ha visto non mi ha saputo proteggere o è l'abusante stesso e questo devia poi le traiettorie dei legami secondari gli investimenti secondari con chi ci innamoriamo di chi ci innamoriamo chi saremo domani con chi costruiremo le nostre famiglie c'è una violazione del corpo e della mente di tutto il sistema anche di desiderio di quello che poi porta alla vita della spinta alla vita che viene minato e in cui i meccanismi neurobiologici di freezing di mi fingo morto entra in campo la dissociazione che è un elemento importantissimo perché alle volte difende dal trauma momentaneamente ma se poi non viene fatto un intervento di integrazione poi le traiettorie sono schizofrenia disturbi gravi della personalità perché la realtà è troppo pericolosa è troppo dura da accettare e quindi me ne creo un'altra e parleremo brevemente di dissociazione verticale cioè non sono più dentro il mio corpo mi guardo dall'alto mentre succede questa cosa quello che sento che vivo che provo sulla pelle nella mia mente nel mio cuore è troppo doloroso mi vedo da su sono qualcuno di altro è una dissociazione invece orizzontale che ha a che fare con quei soggetti che magari hanno avuto quella base sicura quell'adattamento quello stile di attaccamento che li ha in qualche modo protetti ma che nel lungo andare se non lavorata porta a quelle che sono le dissociazioni affettive le persone fredde glaciarie chi non si riesce ad innamorare chi forclude completamente quella parte della vita perché perché quell'amore è un amore malato a prescindere e vedremo anche dopo qualcos'altro sistema emotivo e sviluppo relazionale ed è per questo che noi facciamo diagnosi perché senza una diagnosi non possiamo indirizzare un trattamento la diagnosi non ci serve a dare etichette non ci serve un'etichetta abbiamo le persone la diagnosi ci serve a noi tecnici per poter orientare un trattamento efficace duraturo e concreto ho riportato queste classificazioni della Mucci che insomma stimo moltissimo per farci capire quali sono i livelli di traumatizzazione che noi viviamo c'è un primo livello di traumatizzazione sempre per mano umana che appunto dove il corpo è depositario di una rete di trasmissioni intergenerazionali che sono responsabili di innessi traumatici cioè la difficoltà per esempio in un'età perinatale o subito dopo il postparto nell'instaurazione del legame madre-bambino le madri depresse che comunque perturbano a causa della loro difficoltà il legame col bambino e questo poi origina una serie di difficoltà e già questo è un primo piccolo trauma il secondo livello di traumatizzazione è quello come evento unico violento che sono gli stupri gli abusi quello che spacca e poi c'è un terzo livello nel quale io in realtà inserirei anche tutte quante le tragedie e i traumi ad estrazione naturale come i terremoti le inondazioni ma anche gli eccidi gli stermini che in realtà vengono un po' a costituire una categoria a parte come diceva la dottoressa D'Ambrogio cioè sono in realtà meno massivi a livello di impronta perché c'è un sistema di protezione che in quel caso funziona cioè la socialità il sentirsi uniti e l'affrontare qualcosa mentre avviene che succede quando vediamo un bambino non vediamo il trauma perché spesso i bambini hanno difficoltà a dire vedo i colleghi della giustizia vedo la polizia vedo i carabinieri con il quale collaboro frequentemente spesso quando facciamo le sit che sono le sommarie informazioni testimoliani che si acquisiscono prima che l'iter giudiziale si verifichi spesso accade che quando si parla con i bambini per quanto insomma si facciano tutto bene ha qualche domanda che va fatta in un determinato modo perché altrimenti poi siamo gli atrogeni ma mettiamo in difficoltà i tribunali mettiamo in difficoltà i magistrati mettiamo in difficoltà chi deve capire e giudicare se c'è stato il trauma se c'è stato l'evento il reo commesso o meno perché siamo in una fase preliminare perché noi dobbiamo essere in grado di non mettere le nostre supposizioni nella testa e nella bocca dei bambini non si fanno domande chiuse ai bambini non si dice dove ti hai toccato qui no cioè si deve trovare un modo o altro la tecnica la formazione per far emergere il dato significativo e che vediamo noi vediamo problemi scolastici il sistema emotivo è depauperato è defragrato irrompe negli stati di coscienza irrompe nell'area cognitiva calano le prestazioni improvvisamente che succede discontrollo degli impulsi bambini che si arrabbiano molto comportamenti sessualizzati disturbi del sonno disturbi alimentari depressione ansia iniziano a tagliarsi a farsi del male iniziano a riproporre con i giochi con gli amichetti con quelle situazioni che hanno vissuto forse anche in una maniera esorcizzante perché il corpo lì si difende anche se piccolino e che ha bisogno ancora di essere fortificato però ci prova e poi le fughe le devianze come dicevamo prima come diceva prima l'autoressa perché perché la droga diventa l'automedicamento quello che mi offusca la mente io non vedo la realtà la vedo confusa è quasi un po' più accettabile e poi regressioni e incopresi e inuresi a seconda delle difficoltà e dell'entità anche traumatica violenta poi chi acquisisce le deposizioni vede anche le foto di quello che succede no? non auguro a nessuno di vederle e poi nella valutazione di quelli che sono le aree psi che vengono comunque intaccate c'è questa evoluzione a livello relazionale cioè una serie anche di dirò solamente poche cose ma che secondo me sono di effetto cioè la famosa sindrome di Stoccolma bellissimo il cartone della bella e la bestia ma questo è io mi innamoro del mio aggressore io mi innamoro del mio carceriere perché? perché l'unico amore che conosco è quello e allora io modifico la realtà la cambio lo faccio diventare buono lo faccio diventare amabile lo amo e qui le relazioni tossiche oppure l'identificazione con l'aggressore sono io ad aver causato questo sono io che ho provocato e qui ancora una volta no? con la giustizia capire quanto sia importante fare attenzione in passato spesso si faceva la domanda ma come come eri vestito come sei vestita che c'entra no? allora l'idea io ho provocato questo no il discontrollo degli impulsi non è da come noi ci vestiamo è da chi ci aggredisce la devianza le relazioni tossiche di qui sopra la maggior parte dei pedofili sono stati abusati sessualmente da bambini quando avete parlato mi sono ricordata che ho preso il computer per cercare lo studio di uno studio agghiacciante fatto negli Stati Uniti di un sfido a definirlo collega perché non era collega non era collega però tale dottor Kendall che aveva messo su una serie di case famiglia di orfanotrofi mettendoci dentro a lavorare i pedofili lo conosceva perché? perché voleva esorcizzare essendo quelli gli anni del proibizionismo degli anni 50 insomma una serie di modalità sovversive a livello sociale creando delle cose abberranti creando delle cose abberranti ecco era una fabbrica di pedofili divenne uno uno sterminio e poi ci sono i disturbi di personalità gravi che sono in realtà sotto le genomonie di quello che abbiamo parlato prima di quello che abbiamo parlato prima abbiamo accennato la dissociazione vedermi dall'alto perché così non sono lì la violenza sessuale accade in tutto il mondo ma la cosa che più ci spaventa è che si ripete non solo all'interno dei nuclei familiari dove sono pervasive e tutto ma la maggior parte degli studi clinici fatti hanno messo in evidenza come disturbi di personalità borderline in realtà self-cutting correlati sono spesso collegati agli abusi sessuali infantili e i bambini che hanno avuto che hanno subito un abuso sessuale infantile spesso avranno hanno avuto purtroppo un abuso sessuale in età adulta questo perché questo meccanismo psicologico Ferenczi ce l'ha insegnato Freud ce l'ha insegnato si chiama coazione a ripetere è una cosa ghiacciante ma è il nostro modo di curarci di esorcizzare questa volta inconsciamente lo controllo questa volta inconsciamente ci provo a controllarlo ovviamente non è assolutamente un'accusa è un modo per provare a autotrattarsi pericolosissimo la dissociazione poi però porta a quelli che sono tanto stati insomma sotto lo sguardo anche dei social media i disturbi della personalità stampo dissociativo le personalità multiple spesso non c'è l'integrazione dei nuclei della personalità in un gradiente da più grave a meno grave ma questo è sconvolto dallo shock dell'aggressione e dallo sforzo di adattamento il bambino non ha una sufficiente capacità di giudizio per condannare la condotta di tali persone autorevoli abuso di potere asimmetria i deboli sforzi fatti in questo senso sono brutalmente e minacciosamente respinti dal colpevole il bambino viene accusato di menzogna quante volte io personalmente la dottoressa i colleghi che è successo la mamma racconta e poi viene da noi e dice sì vabbè ma era lei che dice bugie no i bambini non le inventano delle cose se non sono spinti e non c'è qualcosa altro dietro e quello poi andiamo ad indagare no e cosa più frequente la situazione diventa capovolta la sessualità è orribile è giusta questa sessualità terribile allora la evito oppure che succede sono io a provocare io sono la vittima io sono la no io sono il colpevole l'ho provocato io l'unico amore che mi merito è questo drammatico disturbi di personalità borderline tanti ne incontriamo così disturbi di personalità di tipo dipendente evitante che sono strettamente collegati e poi tutti gli stili di attaccamento che abbiamo visto prima con la dottoressa e poi c'è c'è il nostro intervento e qui divento provocatoria nel 2020 complice la pandemia il 77% di aumento per i casi di pedopornografia e continua a crescere queste linee guida alle quali abbiamo insomma lavorato alle quali continueremo a lavorare hanno a che fare con la segnalazione l'ascolto l'accoglienza l'intervento il trattamento ma la domanda che mi voglio porre oggi che ci vogliamo porre oggi è quando e quanto i servizi e le istituzioni aiutano quanto invece quando siamo gli atrogeni e quali criticità oggi nei servizi nelle nostre istituzioni ci sono se io sbaglio un intervento io non sto cambiando un bullone io cambio una traiettoria evolutiva se faccio una domanda sbagliata si apre il caso di Rignano Flaminio quante deposizioni al macero sono andate per carità ognuno è in buona fede ma poi le bucce di banana giuridiche ci sono e quindi le testimonianze diventano inamissibili e non si può fare niente con una testimonianza inamissibile giusto qualche piccolo spot perché qui arriva quello che noi possiamo fare oggi come interdipendenza sana direi tra noi e tra le istituzioni l'ascolto di un minore va fatto con criterio l'ha fatto con consapevolezza va fatto con competenza e con formazione ci sono degli articoli di legge codice di procedura penale le sit le sommarie informazioni testimoniali avvengono prima presso l'APG e poi il procuratore può anche disporre una piccola relazione per andare a verificare la capacità di rendere testimonianza ma qui c'è il presidente spero di non fare strafalcioni secondo l'articolo 196 del codice di procedura penale chiunque potrebbe addirittura rendere testimonianza ma va instradato va aiutato va comunque assecondato e ci sono degli ausili l'APG si deve avvalere di un tecnico un esperto di psicologia in età evolutiva e o uno psichiatra infantile poi i giudizi hanno un po' adattato perché questo è un refuso della convenzione della Ranzarote e dei vecchi codici per cui è un neuropsichiatra infantile che può essere chiamato in sede di incidente probatorio apertura delle indagini preliminari imminente si tratta di un ascolto del minore protetto ciò vuol dire che è un'udienza a tutti gli effetti anticipata in modo tale che poi il minore può andare in trattamento perché non ci saranno stati danni iatrogini non ci sarà stata una vittimizzazione secondaria sarà comunque stato ascoltato bene in maniera completa e poi la giustizia ha i suoi tempi e può procedere da sola ma il bambino non rimane da solo non si fa un ascolto protetto dopo sei anni ai noi e non lo dico lo dico un po' in maniera provocatoria ma so e ne abbiamo discusso tante volte che è faticoso anche per i GIP è faticoso anche per chi come CTO sta lì a valutare la questione e poi è faticoso per i servizi che dicono io ho le mani legate io non posso lavorare con questo bambino perché non posso intaccare quella struttura ma allora cerchiamo di velocizzare e in questo mi sono accordata prima con alcuni elementi importanti della giustizia noi sappiamo che la PG ha un codice rosso che è il codice delle violenze violenze a querella della persona offesa tutti i 609 tutte quelle che sono le violenze più disparate purtroppo urge la necessità di creare un sottocodice perché noi non possiamo ascoltare un bambino come ascolteremo un adulto vittima di abuso sessuale che lo ascoltiamo due volte in sit una volta in audizione in udienza eccetera eccetera noi dobbiamo limitare l'esposizione del bambino e come facciamo perché quante volte dovrebbe essere ascoltato il bambino da legge minimo due in sit e in audizione da legge di codice rosso purtroppo due in sit e una in ascolto in audizione in udienza è forse forse questo lo dobbiamo cambiare dobbiamo provare a parlare con il procuratore con il tribunale con la giustizia perché perché bastano due volte se si fa bene bastano due volte non si cronicizza e non si creano danni anche al sistema di giustizia perché io non vado a creare quelle che si chiamano le false credenze le false memorie nei bambini ci sono i bambini assecondano l'adulto per definizione perché cercano l'amore e quindi l'intervento giuridico dovrebbe essere tempestivo esaustivo da pochi giorni a pochi mesi al massimo ecco perché dobbiamo fare gli Einstein della situazione e poi le ultime domande sono quelle che ci sentiamo che mi sento porre sempre dai tecnici da chi ci lavora dottoressa ma si può fare qualcosa? dottoressa ma si recupera una cosa del genere? Tutto si affronta tutto si può lavorare e si può trasformare tutta ogni cosa con tanta fatica Locke diceva che il nome del padre inteso papà poi qualcuno magari può anche estenderlo il nome del papà è il collegamento tra il nostro mondo interiore e la nostra realtà esterna e quindi è il nome delle cose e noi lavoriamo col nome delle cose con quello che ci succede un trauma non si cancella c'è una procedura meravigliosa giapponese che è il kintsugi che è l'arte di riparare i vasi loro non li buttano i vasi rotti li incollano con l'oro li ristrutturano li abbelliscono cercano di evidenziare di trasformare il trauma in qualcosa di molto più prezioso noi proviamo a fare questo con il trattamento noi proviamo a fare questo con l'accoglienza con l'ascolto con le psicoterapie diventa più bello non so però si trasforma tutto e succede concludo quindi preveniamo interveniamo trattiamo e siamo qui quindi grazie per l'attenzione una frase che mi ha colpito molto quello che spacca sì c'è quello che spacca quello che ti rompe dentro questa immagine finale della persona lacerata però che ha la possibilità di riparare attraverso una relazione che cura una relazione che mostra un'immagine del mondo completamente diversa da quella che invece in qualche modo il trauma ha insinuato cioè una immagine di un mondo pericoloso negativo inadeguato dove tu sei l'inadeguato e questo ci apre un universo di considerazioni che naturalmente per tempo per necessità non possiamo fare ma questo non significa che non possiamo pensare appuntamenti futuri magari l'anno prossimo il 18 di novembre e magari cercare di puntualizzare di più questo aspetto che credo sia fondamentale per tutti bene ringrazio Don Gianluca Marchetti la dottoressa Tatiana D'Ambrogio la dottoressa Sirolli per le relazioni che ci hanno offerto e soprattutto la possibilità di integrare gli aspetti del trauma e la complessità del trauma dell'abuso credo che questo sapere che è necessario se non è associato ad un saper fare e ad un saper esserci nella relazione con i minori è puro sapere cioè non ci aiuta granché quindi entriamo nel vivo dell'incontro di oggi e cerchiamo un po' insieme di tradurre quello che è stato un po' detto a livello più teorico con un'operatività con quello che stiamo cercando di fare a livello di rete nel nostro territorio quindi invito la dottoressa Legge ad accomodarsi salire qui sul palco possiamo prendere quella serie lì grazie in modo che presiderà con noi dalla tavola prego puoi stare da te ok allora la settimana scorsa c'è stato in neuropsichiatria infantile il primo tavolo interistituzionale che ci ha un po' permesso di effettuare un primo confronto con le istituzioni del territorio e presentare la bozza del protocollo insieme alla dottoressa Legge adesso lo vedremo e soprattutto cercheremo di centrare l'attenzione su quello che è il lavoro di rete e quindi quelle che sono le buone prassi interistituzionali quindi lascio la parola alla dottoressa Legge che si è spento tutto eccolo qua ci siamo dottoressa c'è il microfono di là prego è acceso ok allora ringrazio intanto per l'iniziativa la diocesi e gli operatori per aver raccolto questo diciamo pubblico e riunito vari enti che sono importanti per questo lavoro di rete per i minori e quindi ho accolto molto favorevolmente anche perché ho diciamo partecipato nel 2007 in regione al protocollo di intesa regionale per quanto riguarda l'abuso e attualmente faccio anche parte a livello provinciale dell'Equip che tratta queste situazioni all'Aquila nel caso in cui o la scuola il minore non vogliono essere diciamo divulgare quanto sono venuti a conoscenza nell'ambito proprio del territorio e quindi c'è la possibilità di svolgere la valutazione e tutte le indicazioni che si devono fare in questo caso in un ambito lontano dal territorio e quindi faccio parte anche di questo quindi questa iniziativa per cui la dottoressa con la lancia è venuta insomma a portare in servizio è stata accolta ben volentieri quindi l'obiettivo in base a quello che è stato poc'anzi detto è quello appunto di creare una rete nel tema del maltrattamento e abuso con i diversi attori del territorio e promuovere interventi idonei finalizzati a prevenire rimuovere e monitorare questo fenomeno qual è la cosa più importante la formazione cioè nel senso che in tutti quanti gli ambiti i vari operatori dei servizi ma anche della scuola il terzo settore cioè tutto ma è importante che sappiano sia quali sono le normative cioè l'obbligo di dover intervenire nel momento in cui si viene a conoscenza e quindi accompagnare chi viene a conoscenza su che cosa fare spesso mi sono trovata che essendo diciamo un neuropsichiatra infantile nel momento in cui a scuola o in altre situazioni l'adulto viene a conoscenza di una delle cose riferiscono diciamo al servizio territoriale di neuropsichiatra infantile con l'aspettativa di essere noi a denunciare la cosa questo che cosa implica che se siamo noi poi non possiamo intervenire sull'utente e lì quindi è importante in questo lavoro diciamo di rete capire questa cosa cioè se lo fa la scuola se lo fa il servizio sociale o altre situazioni permette a noi poi di lavorare sul bambino e sulla famiglia anche sull'abusante perché nelle varie situazioni si deve intervenire e sostenere anche l'abusante la collega appunto detto che spesso chi fa queste cose è stato a sua volta vittima nell'età evolutiva quindi anche loro sono anche se sono nella fattispecie abusanti devono essere curati e aiutati quindi sono ben contenta di questa diciamo iniziativa quindi detto questo quali sono gli attori della rete lo vedremo adesso diciamo nella tavola che sto aprendo in cui in qualsiasi punto può essere cioè può essere la diocesi può essere l'asilo nido può essere la scuola i servizi sanitari sia ospedalieri che territoriali l'accesso al punto soccorso con lividi o altre cose in cui diciamo viene detto una bugia rispetto a quello che è successo i servizi sociali il terzo settore anche le forze dell'ordine quando vengono chiamati in determinate situazioni quindi è importante che noi ci mettiamo d'accordo con dei protocolli di intesa ognuno sapendo che cosa si deve fare e come quindi diciamo dopo questa tavola che faremo oggi ogni settore ogni ente andrà a fare diciamo il proprio protocollo e insieme interverremo in questa situazione quindi qui non si vede bene comunque è l'indice del protocollo che noi abbiamo finora quello che siamo riusciti a fare diciamo questa è una parte intermedia dopo questo incontro ogni settore o niente andrà a portare il proprio contributo e ci sarà diciamo la fase terminale non mi soffermo tanto su quello che è già stato detto cioè quali sono le fasi dell'intervento c'è la fase della rilevazione della segnalazione o i servizi sociali o la denuncia per ipotesi di reato l'ascolto e valutazione e trattamento allora nella fase della rilevazione cosa succede si intende per rilevazione il percorso di un approfondimento che trae spunto dalle osservazioni compiute nell'ambito della loro funzione istituzionale da parte di insegnanti medici educatori nonché da familiari o cittadini preoccupati dall'emergenere dei comportamenti di disagio e sofferenza vissuti da un minore e qui appunto venne riportato le famose linee guida a cui io ho partecipato nel lontano 2006-2007 perché poi è stato pubblicato nel 2007 allora nella fase di segnalazione cioè quando noi nella rilevazione andiamo a vedere che c'è una situazione di pregiudizio per il minore dovuta a condotte genitoriali o altro dobbiamo pensare appunto a sostenere il minore per cui cosa facciamo in collaborazione con i genitori si può procedere in due modi o alla segnalazione servizi sociali territoriali nel caso di minori in situazioni di pregiudizio oppure la denuncia alla procura della repubblica presso il tribunale ordinario e una segnalazione alla procura della repubblica presso il tribunale dei minorenni nel caso in cui c'è un reato perseguibile d'ufficio e arriviamo diciamo alla parte importante che è l'ascolto in cui dobbiamo tutelare il minore il suo equilibrio psichico e quindi dobbiamo stare attenti in questa fase a come fare domande a come procedere di questo diciamo dell'acquisizione di sommare informazioni testimoniali e dell'incidente proprietario l'ha parlato la mia collega per cui vado avanti dopodiché c'è la cosiddetta presa in carico che è molto delicata noi purtroppo nel servizio cioè in questo anche a causa del covid sono purtroppo ambientate di molto queste situazioni e quindi mettiamo atto una serie di situazioni per cercare di proteggere diciamo il minore e di tutelarlo per quando sono i suoi aspetti emotivi il comune diciamo attraverso i servizi sociali ha la funzione di protezione di interlocutore con l'autorità giudiziaria tuttavia e questo comporta un lavoro d'equip quindi spesso ci incontriamo per cercare di capire come procedere quindi c'è la valutazione del minore e il trattamento anche di questo la collega ne ha parlato c'è la cosiddetta tecnica dell'MDR che diciamo dopo una fase iniziale di approccio con l'utente aiuta molto a una situazione di recupero e questo quindi ho detto poche parole è il cronoprogramma quindi diciamo oggi c'è questa riunione ci sarà questa tavola rotonda per cui entro un mese verranno presentate le schede ciascuno per ciascun attore e la conseguenza poi sarà dopo una revisione di questa bozza di protocollo la presentazione da parte dei soggetti della rete con le firme di questo protocollo quindi ho finito nella presentazione allora riprendo un paio di cose importanti che ha detto la dottoressa legge prima di dare la parola alle istituzioni che ringrazio veramente della loro presenza perché per noi è fondamentale non possiamo cioè possiamo dire tante parole possiamo scrivere tante cose ma poi fattivamente chi sta sul campo sono gli operatori gli operatori delle istituzioni che ogni giorno veramente combattono contro possiamo dire tante cose tanti buoni propositi poi fattivamente non diventano operativi e questo ci rende ci fa vivere quell'impotenza che è ancora più forte perché da un lato c'è il desiderio di aiutare ma poi riprendo la domanda della dottoressa Sirolli quanto i servizi aiutano veramente la sono appuntata perché quanto i servizi aiutano veramente quanto alla fine non diventa poi anche una violenza istituzionale quella di delle lungaggini della mancanza del personale di mancanza di qualità e di professionalità a volte perché uno non riesce a fronteggiare più cose contemporaneamente quindi detto questo il protocollo d'intesa che vi è stato presentato venerdì 11 novembre che voi avete insomma ci dà la possibilità di avere una base su cui riflettere e ragionare quindi vi inviterò a salire sul palco insomma uno a uno in modo da poter dire la vostra opinione mi stanno dicendo che devo ok immediatamente quindi procediamo con una riflessione da parte degli attori insomma della rete istituzionale quindi invito a salire sul palco per la cooperativa Nuovi Orizzonti Sociali il dottor Stefano Calore che deve andare via che è il project manager è un esperto di fondi europei a gestione diretta che ci presenterà un importante progetto europeo che è stato realizzato anche con la partnership del comune di Sulmona che insomma hanno realizzato sì sì assolutamente c'è il computer lì proprio quest'anno quindi di formazione nella tutela dei minori è in alto lì visto sì buonasera a tutti io innanzitutto voglio ringraziare la dottoressa con la lancia e la presidente della cooperativa sociali candidata a bate per avermi invitato a questo importante convegno io purtroppo ho i minuti contatissimi perché avevo un altro impegno in agenda dottoressa quindi cercherò di essere molto sintetico e chiaro questa è un'occasione d'oro per questo territorio e per questa città innanzitutto faccio una piccola parentesi perché penso che il progetto Marte che è l'acronimo di un approccio multidisciplinare per riconoscere rilevare e trattare le esperienze infantili avverse possa veramente rappresentare una buona pratica perché questo progetto che tra l'altro si è concluso proprio nella giornata di ieri ci ha regalato dei risultati sorprendenti innanzitutto due risultati estremamente importanti il primo è che per la prima volta in Europa in Europa perché questo è un progetto europeo gli operatori potranno usufruire delle linee guida di linee guida pratiche sulla rilevazione e il trattamento delle esperienze infantili avverse quindi lo trovate sul sito è un sito multilingue perché il progetto è un progetto che ha visto il coinvolgimento di quattro paesi europei nello specifico l'Italia la Slovenia la Grecia e la Bulgaria le potete scaricare le potete leggere perché sono a favore di tutti quei soggetti che noi abbiamo chiamato in qualche modo gli stakeholders quindi dagli psicologi alle forze dell'ordine agli avvocati agli educatori infantili possono sostanzialmente utilizzare quando si trovano nelle varie fasi di rilevazione e trattamento delle esperienze infantili avverse il secondo risultato molto importante che abbiamo ottenuto grazie a questo progetto è un protocollo un protocollo che abbiamo firmato e siglato nel mese di giugno se non vado errato con il comune di Sulmona e attenzione io qui oggi ci sono anche delle colleghe della cooperativa Horizon Service perché Sulmona è all'avanguardia sulla tutela dei minori e sul contrasto alla violenza dei minori dottorezza che questo non è il progetto Marte non è il primo progetto europeo che negli ultimi quattro anni ha visto Sulmona protagonista non a livello nazionale ma a livello europeo io ricordo il progetto Children First di cui forse le colleghe della Horizon Service vi dettaglieranno successivamente dove invece abbiamo affrontato la tematica della violenza assistita anche lì abbiamo sviluppato un protocollo delle linee guida noi abbiamo europeizzato le linee guida del CISMAI sulla violenza assistita un risultato stratosferico oggi abbiamo in corso un altro progetto che è quello invece sul contrasto alla violenza perinatale questo territorio è in prima linea è in prima linea rispetto a questo tipo di tematiche quindi io voglio spendere veramente due parole e poi chiudo sull'importanza adesso sull'esigenza di mettere a sistema tutto di quello di buono abbiamo fatto negli ultimi anni perché vanno bene i protocolli vanno bene le linee guida perché sono ovviamente strumenti indispensabili indispensabili ma adesso è ora che la rete si in qualche modo si metta a sistema perché bisogna lavorare ovviamente in team perché questo ce lo chiede tutti i bandi europei a cui abbiamo risposto negli ultimi anni ci chiedevano di migliorare la cooperazione di aumentare l'importanza della rete ok nel purtroppo nell'andare incontro a questi gaps che poi soprattutto i professionisti si incontrano soprattutto nella rilevazione del trattamento di questi casi quindi oggi questo convegno secondo me rappresenta veramente una pietra miliare importante da cui dobbiamo partire dobbiamo partire non ci dobbiamo più fermare perché adesso è l'ora di mettere in pratica tutto ciò che abbiamo a voi noi vi mettiamo a disposizione il protocollo operativo che abbiamo siglato con il comune di Sulmona giugno che è sull'esperienza infantile avverso un lavoro durato due anni due anni dove abbiamo coinvolto 350 professionisti in Italia in questo territorio tra formazione casca e training e altri professionisti a livello europeo ve lo mettiamo a disposizione speriamo che ci possa essere anche un'apertura un'elasticità tra i vari strumenti integrarli e rafforzarli ognuno poi per ovviamente l'area tematica che va che va ad affrontare così come ci sarà ci sono anche come ho detto prima altri strumenti che veramente possono essere messi a disposizione per rendere questo territorio veramente un territorio all'avanguardia sulla tutela dei minori grazie 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 dottor Stefano Calori perché veramente questa importante sinergia ci permette veramente di mettere a sistema mettere a frutto quanto è stato fatto fino ad oggi quindi assolutamente accogliamo questa proposta con grande disponibilità assolutamente bene quindi invito a salire l'assessore del comune di Sulmona che si occupa delle politiche sociali e il dottor Attilio De Andrea allora possiamo lasciare questa sedia a chiunque sale così abbiamo il microfono pronto grazie intanto ringrazio il comune di Sulmona che insomma ha collaborato in questa prima fase anche attraverso il lavoro di rete perché il comune di Sulmona come tutti i servizi sociali poi devono assolutamente sono in prima linea chiamati a rispondere a quella che è la tutela dei minori quindi la vostra presenza per noi è fondamentale quindi grazie allora invece il ringraziamento va a voi per quello che avete fatto oggi insomma sia alla diocesi chiaramente alla dottoressa Colarancia e a tutti quelli che partecipano che stanno partecipando perché il discorso della rete secondo me lo abbiamo ripetuto più volte oggi ma è l'unica chiave di volta che ci può far superare quel discorso di sconforto che a volte ci viene quello che appena aveva detto insomma che a volte ci sente un po' come il donkey shot contro i muni di avvento perché è chiaro che le difficoltà sono tante ma per superare queste difficoltà la rete io credo che sia l'unica chiave che ci permette appunto innanzitutto di essere molto più puntuali molto più precisi e alzare sicuramente la qualità perché è chiaro che se ci lavoriamo assieme ognuno può prendere il buono che c'è e le qualità che c'è restando chiaramente ognuno per le proprie competenze e infatti appunto mi ha appena preceduto il dottor Calore ci sono già stati fatti in un anno due importanti progetti su queste tematiche sia con la cooperativa Horizon sia appunto con la cooperativa dei nuovi orizzonti sociali ma questo è soltanto un punto di partenza perché dobbiamo continuare a lavorare su questo e noi come comune diciamo che forse lo strumento più importante che abbiamo in questo momento è il centro famiglia che ci permette di intervenire perché allora io almeno vorrei anche elogiare la qualità di quelle che sono state le relazioni dei tre relatori che ci sono state e queste vanno tutte quante ad evidenziare quella che è secondo me la cosa più importante almeno se si riuscisse a prevenire e quindi come prevenire essere tutti quanti bravi ad individuare dove c'è il problema o quantomeno a intervenire il prima possibile se non si riesce a prevenire e questo diciamo che per quello che riguarda il comune il centro famiglia ci permette di osservare le famiglie che in questo caso sono famiglie a disagio e abbiamo visto che il 70% da quello che abbiamo visto di queste violenze avvengono proprio nelle famiglie e questo dove si riescono a valutare qui interviene la qualità dei nostri qui abbiamo qualcuno che lavora con noi la dottoressa Romanelli che la qualità nel riconoscere subito dove c'è una situazione di pericolo che può appunto poi degenerare in una forma di violenza o quella di una violenza già esistente e quindi subito intervenire sia con l'assistenza sia con la segnalazione agli organi competenti questo è un passo successivo al centro famiglia perché prima non c'era e prima si andava a chiara si facevano servizi domiciliari il centro famiglia è un passo avanti ma il passo più importante che si può fare appunto è quello di mettere a sistema quindi vanno benissimi i protocolli vanno bene questi incontri e noi appena stiamo finendo diciamo il piano sociale è importantissimo secondo me ripetere incontri chiaramente adesso parliamo di questa tematica ma su tutte le tematiche del sociale noi ci dobbiamo vedere quanto a cadenza semestrale va bene perché portare avanti quello che è il piano sociale sicuramente correggere vedere dove manca e cercare di evidenziare problematiche che magari le ho viste io non le so risolvere non le posso risolvere ma posso comunicare a voi e magari qui ci sono i talenti per poterle risolvere quindi appunto ribadisco di nuovo il concetto fondamentale della rete perché fortunatamente o sfortunatamente in questo territorio non siamo tanti siamo pochi come residenti la qualità è molta tantissimi vediamo che lavorano in questo settore e quindi essendo pochi sappiamo anche abbiamo la fortuna di individuare dove ci sono quelle criticità e se ci conosciamo e lavoriamo spalla a spalla è molto più facile riuscire a comunicare e intervenire quanto prima questo è credo che sia fondamentale non voglio dilungarmi su questo perché comunque io dico soltanto che oggi abbiamo parlato di bambini se noi vogliamo parliamo di un futuro e noi stiamo parlando del nostro futuro quindi intervenendo sui bambini noi riusciamo a garantire un futuro migliore per la società e quindi abbiamo io credo un compito davvero importante fondamentale prima 30 anni fa forse non c'era si sta migliorando dobbiamo accelerare ancora di più perché probabilmente come è stato detto non si riuscirà mai a zerare il discorso della violenza ma diminuirlo sensibilizzare e riuscire a far notare a quanto più occhi possibili perché la rete significa mettere anche più occhi a disposizione è chiaro che si diminuisce in maniera esponenziale quello che è il problema e la velocità di individuazione di quello che è il problema non rubo altro perché appunto ci sono tanti interventi che dovevano fare vi ringrazio di nuovo per quello che fate e noi come Comune siamo assolutamente a disposizione per lavorare su queste tematiche fondamentali grazie davvero grazie grazie assessore rispondo su un punto che la dottoressa Legge ha anche un po' evidenziato del crono programma darci delle scadenze come diceva l'assessore è fondamentale quindi faremo degli appuntamenti metteremo insomma in calendario degli appuntamenti per lavorare insieme per progettare insieme la tutela dei minori questo è sicuramente insomma un aspetto importante ora invito a salire sul parco il vicequestore dottor Stefano Bortone che è dirigente del commissariato di Sulmona della Polizia di Stato grazie la presenza delle forze dell'ordine è importantissima quindi ringrazio il dottor Bortone per essere qui arrivato da poco a Sulmona noi abbiamo avuto modo di conoscere il vicequestore aggiunto dottor Cialdone che è andato via forse pochissimo tempo fa quindi neanche un mese fa due mesi fa due mesi quindi è qui da poco quindi le lascio la parola grazie di essere qui sì allora buonasera a tutti e grazie al servizio diocesano al servizio di neuropsichiatria infantile per appunto questa graditissima occasione per appunto mettere in atto un confronto tra tutti gli attori istituzionali che sono impegnati per prevenire e contrastare questo fenomeno sociale che purtroppo come è stato detto poc'anzi porta presenta dei numeri sempre in rialzo questo deve farci riflettere su appunto quali sono le strategie migliori per cercare di innanzitutto prevenire poi contrastare appunto questi reati che sono sicuramente tra quelli più odiosi e quelli che ovviamente sollevano più allarme sociale stegno nell'opinione pubblica ed è appunto una delle modalità migliori per porre in essere questo piano di prevenzione non può che essere questo protocollo operativo che ci consente appunto di confrontarci e ogni istituzione ogni ente potrà appunto suggerire quali sono le linee guida le modalità le pratiche operative che meglio possono essere utilizzate per prevenire appunto il compimento di determinate azioni delittuose a danno di soggetti minori e più vulnerabili quali appunto possono essere bambini soggetti appunto di minorità e da un punto di vista diciamo di giuridico quindi come operatore del diritto quello che posso dire per esperienze pregresse è che il diciamo il delitto a danno di un soggetto minore presenta delle caratteristiche è molto molto difficile da scoprire perché appunto come è stato poco anzi riferito da i professionisti esperti e competenti della materia che hanno appunto illustrato il loro punto di vista e appunto le loro conoscenze è difficile avere un rapporto diciamo diretto con la vittima di un reato del genere per ovvie ragioni perché appunto il minore in determinate situazioni potrebbe risultare poco attendibile non essere in grado di raccontare quello che ha vissuto quello che è successo perché ovviamente è un soggetto vulnerabile scosso e quindi ancora vive il trauma dell'abuso e della violenza parlando della polizia di Stato posso però dire che per fortuna in questi ultimi anni tanto è stato fatto nel senso che la nostra amministrazione si è data da fare su questo versante cercando di porre in essere un piano di formazione sempre più particolareggiato più specifico a favore degli operatori di polizia nel senso che sono stati istruiti a cercare di raccogliere nel miglior modo possibile le denunce a raccogliere le sommarie informazioni testimoniali nel modo più trasparente e per poter cristallizzare al meglio le dichiarazioni rese dai testimoni dalle presunte vittime per cercare poi all'autorità giudiziaria di appunto svolgere al meglio il proprio lavoro e quindi diciamo tanto è stato fatto però ecco in ambito locale in ambito appunto territoriale posso accogliere con molta positività questo impegno propulsivo per cercare appunto di arrivare a un piano condiviso di queste linee operative che ci consentiranno sicuramente di agire ancora di più al meglio e quello che posso dire di prevenire realmente certe fenomenologie perché come diciamo nell'ambito del controllo del territorio la volante ha il compito principale di prevenire il reato e sarebbe appunto opportuno cercare di attuare in questo settore la stessa strategia di intervento per fare in modo che anche un piccolo campanello d'allarme possa essere inteso nel miglior modo possibile e intercettare quelle che sono diciamo le situazioni di degrado o comunque di violenza che possono portare ai maltrattamenti in famiglia o comunque a tutte le altre fenomenologie delittuose che appunto sono stati oggetto di intervento quest'oggi grazie 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 dottor Bortone allora invito a salire il dottor Tony di Giosia che è capitano dei Carabinieri e comandante della compagnia di Sulmona Buonasera io ringrazio per l'invito molto gradito e vorrei accennare solamente qual è la struttura dell'arma per la prevenzione della repressione di questo genere di fenomenologia dal 2014 che l'arma dei Carabinieri si è dotata di una struttura interna non a caso chiamata rete nazionale per il monitoraggio del fenomeno sulle violenze di genere all'interno della quale vengono anche trattate questi fenomeni ai danni di minori fa capo ad una sezione appositamente creata all'interno del raggruppamento grabinieri in investigazioni scientifiche di Roma che dirama linee guida e buone prassi per strutturare al meglio l'attività di indagine quella che più però mi preme sottolineare è che la forza per quanto riguarda la nostra istituzione e la presenza capillare sul territorio delle stazioni carabinieri questo perché ci consente attraverso i militari comandanti di stazioni di acquisire delle informazioni direttamente sul territorio in particolare attraverso i rapporti intesi istituzionali con le scuole con gli insegnanti con i vicini di casa e sono delle vere e proprie sentinelle nel territorio spesso ci capita per l'appunto di venire a conoscenza di problematiche attenenti minori attraverso il colloquio per l'appunto con la scuola con quelle che sono i rapporti classici durante il servizio di battuglia anche a piedi che può sembrare quasi anacronistica nel 2022 che però vi assicuro permettono di acquisire delle informazioni importanti e a conclusione voglio dire che per l'appunto solo la collaborazione interistituzionale ci permette di creare quella rete non più a livello interno delle singole amministrazioni ma a livello generale che ci consentirà sicuramente di avere dei risultati sicuramente migliori di quelli che già comunque si ottengono oggi grazie grazie allora polvo l'occasione che ci sono insomma i referenti delle forze dell'ordine per dire una cosa che abbiamo un po' sottolineato venerdì scorso dell'importanza della formazione soprattutto nell'ambito scolastico e quindi anche di poter creare insieme magari prossimamente nei prossimi tavoli interistituzionali una proposta formativa che coinvolga direttamente le forze dell'ordine magari per il contrasto per esempio dell'abuso online della pedofornografia e organizzare magari un evento l'anno prossimo su questo tema che li vede coinvolti in prima battuta quindi grazie insomma magari di questo ne parleremo per l'anno prossimo invito a salire sul parco la dottoressa Gianna Tollis che è presidente dell'associazione Ladiosa associazione del terzo settore che si occupa di violenza di genere pediatra del presidio ospedaliero di Sulmona per un saluto grazie buonasera a tutti grazie grazie per l'invito grazie per averci coinvolto quando io ho ricevuto l'invito un po' di tempo fa dalla dottoressa con la lancia per partecipare a questa rete ho detto vabbè partecipiamo come associazione e come associazione sostanzialmente siamo un po' il serbatoio di queste situazioni in realtà però oggi poi con la dottoressa con la lancia abbiamo ancora parlato e forse è il caso che partecipi anche il servizio sanitario quindi l'ospedale quindi il servizio di pediatria in realtà mentre ho ascoltato con interesse tutti gli interventi e ringrazio i relatori perché mi hanno davvero arricchito stasera non lo dico per piageria ma perché è davvero così io mi sono resa conto che l'ospedale non è solo un serbatoio ma l'ospedale diventa ed è certamente un osservatorio importante perché vi dico questo perché alla polizia o ai carabinieri qualcuno ci deve andare e quindi qualcuno il problema lo deve conoscere ai servizi sociali qualcuno ci deve andare o qualcuno glielo deve dire e quindi il problema in qualche modo deve essere già venuto più o meno fuori alla neuropsichiatria qualcuno ci deve andare all'ospedale il bambino ci capita all'ospedale ci capita perché c'ha la tonsillite all'ospedale ci capita perché c'ha una frattura all'ospedale ci capita perché spesso non c'ha niente e la mamma ha bisogno di parlare quindi l'ospedale è un osservatorio fondamentale ed è quel posto dove ai bambini non si chiede niente i bambini si osservano i bambini si osservano come si comportano i bambini si osservano nel loro rapporto con l'adulto di riferimento e spesso questa nostra osservazione se è attenta se è sensibile tira fuori cose che da altre parti qualcuno gliele deve dire ora però questo per noi è un problema ed è una grande difficoltà ve lo assicuro perché a me è capitato tantissime volte è capitata la frattura spirale del femore a sei mesi il bambino a sei mesi non cammina viene con una frattura spirale perché io lo so perché perché quello è stato strattonato e quindi ha girato sulla gambina e si è fatta la sua bella frattura spirale ma io che faccio perché questo è il vero problema io non so che fare perché questo viene alle due di notte perché alle due di notte la neuropsichiatria è chiusa perché i servizi sociali se è di sabato di domenica di pasqua di natale e guardate che è di sabato di domenica di pasqua di natale perché è in quei momenti che la famiglia è riunita ed è in quei momenti che c'è il problema che arriva la miccia che scatena il problema e io che faccio? Allora io sono assolutamente contenta di far parte di questo protocollo e di questa rete perché forse tra l'altro occupandomi di violenza di genere a tempo perso forse mi rendo conto che è tanto tempo che noi parliamo di una rete di riuscire a fare una rete di parlare tutti lo stesso linguaggio che sia un linguaggio formato che sia uno sguardo formato sono dieci anni che ci provo sono dieci anni che non ci riesco però quindi io sono contentissima di questo però io invito a fare un'ulteriore riflessione abbiamo parlato in regione per tanti anni anche di integrazione socio-sanitaria si parla oggi ancora di piano sociale non si sa che cos'è l'integrazione socio-sanitaria non si riesce a fare un'integrazione socio-sanitaria non possiamo più lavorare divisi dobbiamo cominciare a lavorare uniti è necessario questo non siamo più due entità separate dobbiamo diventare le facce della stessa medaglia altrimenti non ne usciamo e qui qualcuno ha detto non parliamo di cose così parliamo di bambini parliamo del nostro futuro parliamo di quello che stiamo crescendo quindi non parliamo di cose spicciole ma finché io non so a chi rivolgermi alle notte finché io ho bisogno della dottoressa d'Ambrogio come il pane ma non riesco a parlarci perché la dottoressa d'Ambrogio non sa che santo votarsi ed è così è così purtroppo noi il problema difficilmente lo risolviamo quindi che ben venga la rete che ben vengano gli sportelli d'ascolto che sono il pane da cui cibarci ma dobbiamo rafforzare quello che c'è dobbiamo rafforzare la rete istituzionale dobbiamo iniziare a pensare insieme e purtroppo io se c'è un bambino che ha un problema dalla dottoressa d'Ambrogio lo devo mandare o dalla dottoressa legge insomma voglio dire lo devo mandare da un servizio non posso e non è etico non lo farei mai indirizzarlo da un'altra parte e quindi se io lì non trovo le porte aperte se io non trovo il servizio sociale che mi può garantire un servizio 24 ore su 24 che a cui posso chiedere una mano quando ne ho bisogno il problema ci sarà sempre e badate il mio che è un osservatorio sempre particolare mi sta dicendo con un certo allarme che il problema sta aumentando in maniera esponenziale e sta aumentando per svariati ordini di motivi la pandemia è stata uno di questi con la pandemia abbiamo avuto un'accelerazione della capacità dei ragazzini di utilizzare i social network e la rete e questo ci studiavano e questo è stato drammatico perché loro adesso non sono più capaci di venirne fuori per loro è normale dire ma perché io non posso fare questa cosa online ma così come fanno quella cosa istituzionale online ne fanno mille altre e questo è un problema ma non solo la mancanza di coesione sociale ha creato e ha diciamo fatto venire ancora più a galla alcune problematiche negli adulti che poi hanno determinato un ulteriore aggravamento di questa situazione e attenzione l'ultima cosa riguarda principalmente lo dicevo anche in una riunione del piano sociale gli adolescenti gli adolescenti ormai non hanno capacità relazionale interpersonale non sono capaci di farlo e hanno stanno modificando la loro capacità di sentimenti la loro capacità di come dire di attaccamento no e questo è pericolosissimo perché li espone a dei rischi gravissimi in questo secondo me noi possiamo fare i servizi possono fare ma la scuola può fare tantissimo vedo qui tanti insegnanti e sono contenta perché la scuola può fare e fortunatamente dico noi viviamo ancora in una realtà piccola in cui la scuola se sufficientemente stimolata risponde e questo è veramente una bella cosa e vi ringrazio vi ringrazio pubblicamente per quello che fate tutti i giorni per i nostri ragazzi e niente che dire scusate lo sproloquio speriamo di gianna volevo volevo rispondere un po' il po' accorato appello di a volte sentirsi sole a volte siamo reciproca nel senso che purtroppo le reti le reti mancano insomma in realtà questo questo protocollo quello che vi è che è passato insomma nelle mail delle persone che erano le mail in list è la parte teorica poi quello che manca è che dobbiamo costruire insieme la parte pratica quando ci siamo incontrati venerdì abbiamo fatto girare delle schede che volevano fase per fase del processo di rilevazione segnalazione e poi c'era tutta la parte vabbè l'ascolto che riguarda solo specifici e poi la presa in carico o niente mettere quali sono le reali criticità per provare a dare poi una risposta quindi nel caso nel protocollo c'è la parte 4 che è tutta dedicata al pronto soccorso è tutta dedicata alla pediatria ovviamente quella realisticamente la dovete analizzare voi perché noi abbiamo preso dalle linee guida abbiamo messo la parte teoria poi realisticamente abbiamo così abbiamo parlato con alcune ginecoliche che ci hanno detto sì ma non abbiamo i kit sì ma non abbiamo il medico legale non può venire quando devi fare il prelievo del liquido seminale nel caso insomma di un abuso sessuale quindi come dire le criticità reali andranno messe e poi chi è responsabile di queste criticità almeno ce le abbiamo scritte che secondo me un passaggio importante è quello di iniziare a scriverle e trovare delle risorse io non sono di natura una polemica sono una che dice quali sono le criticità e poi proviamo ad essere costruttivi per esempio è vero che come dire non si arriva perché questa esponenzialità dell'accesso della richiesta di accesso ai servizi di neuropsichiatria dopo il covid è stata non arrivavamo neanche prima diciamo la verità ma dopo il covid decisamente di più però potremmo per esempio pensavamo venerdì di dare un nome a un codice cioè se noi facciamo una sorta di triage e tu poi del resto è capitato io con te e tu con me però ci siamo dovute informali se però poi noi diciamo un codice arcobaleno un codice non lo so un codice che significa urgenza io smetto quello che sto facendo per farlo del resto è successo è la stessa cosa tu quando sei stato quei bambinetti che andavano assolutamente visti in ospedale quindi come dire entrare nella concretezza di fare un protocollo poi significa che queste io mi occupo di tante cose ci sono delle cose che secondo me a volte possono un po' aspettare e ci sono delle cose che non possono aspettare questo non può aspettare questo deve passare prima di tutto se tu hai un sospetto quello va alla priorità se tu hai un tentativo di sospetto come è successo insomma ecco criteri di priorità però perché tu ti chiami Tatiana D'Ambrogio io mi chiamo Gianna Tollis e abbiamo i numeri reciproci e ci confrontiamo ma domani io vado via tu vai via perché può capitare no per carità però magari capita di andare in un posto migliore eh sì sì però proviamo a fare caso mai degli schede io ce l'ho avuto qualche anno fa un problema serio con una ragazzina che si stava buttando quando stavamo ancora al terzo piano della la vecchia e ho dovuto litigare con la collega del CIM ovviamente per carità collega dell'adulto e non è venuta a farmi la consulenza poi un'altra cosa mancano i posti di edilacuto lo so ci sono tante stiamo facendo in realtà delle linee guida avevamo sono uscite le emergenze pediatriche no due anni fa abbiamo in cui doveva seguire un PDTA e in direzione abbiamo provato a fare queste linee guida è successo di tutto e di più io non ti do la stanza perché serve a me dopodiché questo non è un problema che riguarda il mio reparto noi non abbiamo una degenza ordinaria c'è dei ospiti all'Aquila e io come faccio a ricoverare questi ragazzi quindi praticamente io uso la mia conoscenza di 40 anni per telefonare a tutti cioè sabato mattina c'era un tentato suicidio a Pezzano mi ha chiamato la collega del pronto soccorso io ho fatto il giro del mondo ho obbligato la diciamo la neuropsiere infantile di Fano che aveva seguito questa ragazzina a dire guarda io so tu sei cioè sei la nuova responsabile prima c'era Vera Stoppioni io so che potete creare un ricovero una degenza perché siete uno hoc e tu me lo devi fare e lei mi ha risposto oggi è sabato io non trovo il tutore non trovo questo quest'altro mi ha detto va bene lunedì mattina e sono lunedì mattina questa ragazza è stata rasferita quindi il PDTA per l'emergenza ancora non c'è perché non c'è stato un accordo noi facciamo quello che possiamo fare no quello che posso dirti è che ci dovete aiutare in questo senso quando voi vedete una frattura un livido altro di scriverlo nell'osservazione perché questo poi con l'invio al servizio ci permette di lavorarci sopra capito e quindi sì lo so però la realtà carenza di personale un aumento degli accessi tutti i codici rossi noi lavoriamo solo sull'urgenza e emergenza e la scuola si lamenta il dottor Diagni eccetera che adesso sta in pensione però voglio dire la scuola ci sta rimettendo per quanto riguarda le procedure della 104 perché noi ci abbiamo da fare prima i codici rossi purtroppo c'è un escalation a tutti i livelli tutto qua effettivamente le provocazioni della dottoressa hanno animato insomma la tavola rotonda certamente ci sarebbe da parlare per ore siamo un po' alla fine e non vorrei togliere la parola alle persone che ci sono adesso perché credo che sia importante ascoltare tutti e dare la possibilità a tutti di dire la propria opinione e il modo in cui stanno lavorando su questo territorio quindi le riflessioni della dottoressa togli si hanno aperto uno squarcio su quello che è poi la difficoltà concreta pratica chi fa cosa come quando e la necessità che da questo da questa linea teorica poi si traduca in una progettualità concreta e un'operatività concreta perciò invito a salire sul palco la dottoressa Elena Bussi che è responsabile dei centri di antiviolenza di Sulmone e Castel di Sangro della Casa Rifugio la dottoressa Laura Di Nicola che è coordinatrice dei centri antiviolenza di Sulmone e Castel di Sangro grazie come si dice è dulcis in fundo saremo sarò breve sì va bene sono Elena Bussi quindi sono responsabile per la Horizon dei servizi che ha citato Lucia e anche però volevo sottolineare il fatto che anche nella casa famiglia che gestiamo ma anche nel SAI noi purtroppo quotidianamente ci troviamo ad affrontare delle tematiche appunto di minori abusati o con dei traumi variegati ed importanti quindi ecco perché per noi è fondamentale essere qui essere stati invitati e vi ringraziamo perché noi prendiamo in carico il minore ma poi senza la rete purtroppo non siamo in grado da sole di aiutarlo fino in fondo anche per cercare di riparare il trauma e per questo a volte nella quotidianità ci troviamo ad affrontare dei buchi e delle difficoltà quindi spero che questo lavoro vada avanti con un protocollo che si renda più operativo possibile proprio perché noi poi nella quotidianità non sappiamo a chi inviare il minore chi lo può seguire quindi abbiamo tutta una serie di difficoltà e quindi anche il lavoro può risultare non globale in questo senso e poi anche l'importanza della formazione perché secondo me è fondamentale parlare la stessa lingua quindi qualora ecco riuscissimo tutti a parlare la stessa lingua secondo me su un territorio anche così piccolo come Sulmona potremmo fare la differenza quindi vi ringrazio grazie a voi allora buonasera a tutti sarò altrettanto breve io sono Laura Di Nicola e sono la coordinatrice dei centri antiviolenza di Sulmona e Castelli Sangro e di Barletta l'ultimo arrivato siamo anche nelle Puglie e della Casa Rifugio la Casa delle Donne grazie di averci invitato per noi la rete chiaramente è fondamentale lavoriamo molto sulle reti come centri antiviolenza come Horizon ci siamo spesi tanto i centri antiviolenza della regione Abruzzo hanno costituito una rete regionale che si chiama Antigone quindi per noi la rete è fondamentale ma il problema dei centri antiviolenza e quindi delle donne vittime di violenza è la visibilità cioè nel senso se la rilevazione il problema della violenza delle donne è difficile per quanto riguarda la violenza assistita quella che noi ovviamente vediamo tutti i giorni possiamo parlare di un sommerso abnorme e quindi questo è il nostro problema centrale fondamentalmente è un problema di lettura e quindi la rete ci può aiutare sicuramente a leggere quelli che sono i segnali della violenza di genere e quindi della violenza assistita e questo lo possiamo fare soltanto insieme perché nella casa rifugio chiaramente noi vediamo i casi quando già come dire le donne i minori quando già sono stati allontanati ma il problema vero lo viviamo al centro antiviolenza con tutta quella fatica che ci portiamo dietro nel fare in modo che anche gli altri servizi gli altri nodi della rete che in qualche modo vengono a contatto con quella situazione rilevino la problematica della violenza assistita che poi spesso si accompagna ovviamente la violenza assistita ad altre forme di violenza a volte non viene proprio vista si continua come dire purtroppo a pensare che il minore a volte sta nell'altra stanza che in fin dei conti è stato un episodio che probabilmente la donna ha provocato si continua a fare confusione fra conflitto e violenza e quindi per noi questi sono dei temi centrali che possiamo affrontare solo se c'è una rete funzionante che li legge in maniera univoca ulteriore problema come diceva la mia collega chiaramente il trattamento perché noi facciamo un pezzo quindi noi aiutiamo le donne con i loro minori le mettiamo in protezione cerchiamo di attivare come dire tutto quello che possiamo attivare quindi percorsi psicoeducativi percorsi di terapia psicologica per le donne e quant'altro però poi ci sono delle difficoltà gravi tutti quegli effetti che la dottoressa D'Ambrogio ci descriveva a noi purtroppo per noi sono pane quotidiano quindi li vediamo tutti i giorni i bambini purtroppo scusate il termine abbastanza come dire duro ce li sbattono in faccia diciamo in maniera quotidiana quindi quando poi non riusciamo in qualche modo a trovare la terapia un percorso terapeutico giusto per quei bambini è frustrante per noi ma immaginiamo insomma noi è sempre una lotta contro il tempo perché poi ci rendiamo conto che prima si interviene e meglio però poi ci sono tutta una serie di difficoltà tutta la questione dei papà il garantire il dover garantire comunque a questi papà la possibilità di vedere questi bambini e quindi tutto il discorso degli incontri protetti e quindi la riesposizione di questi bambini al continuo trauma ma purtroppo siamo come dire a volte obbligati a portarli noi abbiamo avuto dei momenti di grande come dire dolore tristezza di tensione no? perché spesso ci troviamo ad accompagnare dei bambini che non vogliono andare a rivedere il papà ma noi siamo obbligati e noi scriviamo scriviamo ai tribunali scriviamo alle procure scriviamo ai servizi però tante volte nessuno ci ascolta e quindi ecco quello che mi viene da dire è proprio l'importanza della rete vista in quest'ottica intanto nell'empatizzare tutti con questo con questo problema con quello che noi vediamo che poi vedete anche voi chiaramente nei servizi e poi ecco l'importanza di attivarsi per dei percorsi specializzati per questi bambini perché ne hanno fortemente bisogno chiudo grazie grazie dottoressa di Nicola allora invito a salire per l'ultimo intervento non certo per importanza la dottoressa Francesca Russo che è responsabile dei servizi territoriali per la cooperativa Horizon Service ma è qui anche come referente Cismai dell'Abruzzo Molise quindi grazie dottoressa Buonasera a tutti allora grazie per questo invito certo insomma un po' le cose che volevo dire sono state già messe in luce vi voglio un po' spiegare che cosa è il Cismai sicuramente che sta per coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia che è un'associazione presente diciamo italiana che è nata nel 1993 e dal 1993 ad oggi si occupa di questo cioè di in qualche modo sensibilizzare il territorio e le istituzioni innanzitutto a riconoscimento delle forme di maltrattamento all'infanzia perché può sembrare un tema scontato ma in realtà questo è il primo la prima problematica che si incontra c'è una sottovalutazione del problema non esistono diciamo dati statistici che in qualche modo è vero che sono dati che caso a me piacciono come abbiamo detto più a chi su questo deve costruire casomai diciamo ragionamenti di altro tipo ma sicuramente il dato numerico come dire dà peso al fenomeno è un po' così per cui il primo problema che il cisma si è affrontato nel corso di tutti questi anni è quello di creare degli osservatori sul territorio italiano che non esistevano per esempio la regione Abruzzo non ce l'ha un osservatorio regionale che va a monitorare diciamo tutte queste problematiche del lavoro che il cisma è proprio questo di cercare con la regione Abruzzo di istituire diciamo innanzitutto questo osservatorio un'altra delle finalità del cisma è quella appunto anche di sensibilizzare e formare diciamo gli operatori del territorio gli operatori di diverso tipo sia sociali che sanitari le forze dell'ordine l'abbiamo detto fino ad adesso questo perché chiaramente è necessario guardare con gli stessi occhi o meglio come dire essere attenti a quelli che sono i segnali che possono come dire far accendere diciamo così delle lampadine perché l'idea è questa che se noi sbagliamo la lettura sbagliamo l'intervento questa è una cosa importante i miei colleghi dicevano se noi confondiamo il conflitto con la violenza caso mai proponiamo una mediazione familiare quando nei casi di violenza questo la comisione di Istanbul dice che non è possibile lo vieta un altro credo aspetto interessante è anche questo il fatto che attraverso il Cismai le istituzioni italiane sono riuscite a così a creare a normare dei fenomeni che prima non esistevano e questo credo che sia uno dei più grandi risultati ovvero hanno contribuito chiaramente per cui i rappresentanti del Cismai partecipano a quelli che sono di tavoli interistituzionali a livello nazionale fanno parte delle commissioni specifiche per affrontare questa problematica sotto i diversi punti di vista un aspetto che forse non è stato messo in luce oggi è questo o comunque un po' diciamo forse è passato in secondo piano il fatto che per come dire trattare i bambini è necessario prima metterli in protezione cioè non può esistere trattamento senza protezione questo credo che sia uno dei fondamenti del Cismai che attraverso le linee guida nazionali che sono state diciamo realizzate nel corso degli anni o le raccomandazioni fatte diciamo comunque redatte mette in luce soprattutto diciamo questo aspetto non si può come dire curare qualcuno che è ancora in quella situazione di abuso di malessere la protezione è intesa nelle sue diverse forme non necessariamente l'allontanamento del minore dal nucleo familiare questo come dire può essere diciamo la cosa estrema ma sotto diversi punti di vista un'altra cosa che insomma ritengo importante dire è che il Cismai nel 2017 è diventata diciamo società scientifica per cui tutti i prodotti diciamo del Cismai il lavoro che viene fatto ha un valore scientifico per cui anche le linee guida che qua sono possono essere ho visto sono citate nel diciamo nel protocollo però possono essere prese proprio come posso dire come una diciamo delle tappe ben precise del lavoro da fare e a livello appunto diciamo abruzzese c'è molto da fare in questo senso le linee guida regionali citate sono appunto di tantissimi anni fa ormai di 15 anni e 15 anni sono tanti soprattutto nel nostro settore diverse sono le ricerche diciamo che sono state fatte anche a livello internazionale per cui è importante sicuramente andarle a rivedere e siamo un po' diciamo ci stiamo un po' lavorando in questo senso sì lo stiamo facendo diciamo però diciamo il percorso è un po' lento e quindi comunque ci stiamo lavorando e su questo territorio il CISMAI insieme appunto alla cooperativa sociale Horizon Service ha portato avanti questo progetto sulla violenza assistita ricordo che il termine violenza assistita è un termine che ha coniato il CISMAI e che è un termine ormai internazionale diciamo questo come dire progetto ci ha permesso anche di partecipare a un congresso internazionale quindi per noi è stata una cosa molto importante che è l'ISPCAN quindi come dire questo territorio è stato presente nella descrizione di questo progetto confrontandosi con realtà chiaramente internazionali che forse da più anni di noi si occupano e sono anche all'avanguardia rispetto alla cura e alle tecniche di cura è già stato detto diciamo dal collega Calore che sono state emesse delle linee guida sulla violenza assistita che ha firmato il comune di Sulmona che ci ha visto protagonisti anche in un convegno a Milano conclusivo del progetto con altre realtà europee una cosa appunto che volevo dire è questa cioè spesso i bambini non sono creduti a questo penso che è forse il più grande problema del nostro lavoro è uno scoglio duro diciamo così da abbattere c'è sempre viene sempre messo come dire il dubbio che la vittima sia una vittima questo vale per i bambini e vale per le donne è come se bisogna sempre dimostrare che chi è vittima lo è cioè c'è sempre come dire una cura particolare all'aggressore quasi alla difesa del maltrattante quindi il lavoro degli operatori spesso è difficile per questo perché ci si sente un po' gli unici portavoci delle stanze dei bambini e un'altra cosa su cui il cisma diciamo punta l'attenzione è anche il recupero del maltrattante perché se vogliamo lavorare sulla prevenzione del contrasto è vero dobbiamo lavorare diciamo su tutti gli attori del sistema di riferimento quindi i bambini i genitori la famiglia o chi come dire ne fa le veci e anche il maltrattante perché altrimenti come dire cambiamo solo la vittima molto probabilmente per cui devo dire sul territorio italiano stanno nascendo diversi servizi a supporto appunto di chi agisce il maltrattamento e l'idea che come dire si parli di uomo maltrattante o di persona abusante ci dà l'idea che è qualcosa che si può cambiare che non è una cosa che appartiene all'individuo ma su quale l'individuo può lavorare sono state citate diciamo delle tecniche per lavorare sul trauma certamente mancano dei servizi specializzati su questo in Abruzzo ce ne sono pochissimi un po' perché come dire non sono state destinate anche delle risorse pubbliche per questo per cui spesso è dato dal professionista vuol dire che individualmente per propria sensibilità si è formato su questo ma io credo così lo dico io ma lo dice il CIS ma è anche che la cura è un diritto di tutti e quindi deve essere per tutti sia per chi se lo può permettere diciamo e per chi no quindi per chi lavora nei servizi pubblici penso che questo sia la cosa importante per fortuna ce ne abbiamo per questo dico quindi vanno potenziati molto probabilmente esattamente sì e questo quindi questo vuole essere un po' il mio monito cioè far sì come dire che questa esperienza possa essere anche replicata e questo mi sembra che è anche un po' l'obiettivo anche a livello regionale il CIS ma è su questo come dire noi abbiamo già parlato anche per quanto riguarda la formazione può mettere a disposizione gli specialisti a livello diciamo nazionale che abbiamo per poter diciamo così crescere ognuno di noi cioè continuare a crescere rispetto alle nostre competenze grazie 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 dottoressa Russo allora ci avviamo un po' alla conclusione di questa giornata intensa che veramente ha aperto tanti scenari quindi insomma si potrebbe ancora parlare penso per ore quindi prima di chiudere c'è la dottoressa Sirolli che vuole dire un'ultima parola e poi faccio salire insomma per i saluti finali intanto ringrazio tutti voi per aver resistito siete stati coraggiosi fino alla fine grazie grazie di essere stati qui volevo sarò brevissima perché le suggestioni sono tante e le domande sono tantissime ma quello che mi risuona sempre e comunque da tutti gli interventi di tutti i colleghi e gli attori no è che oggi noi siamo stati invitati e penso ad uno sforzo di coraggio ed onestà noi abbiamo degli obblighi professionali siamo carenti ma non ci possiamo nicchiare dietro l'assenza di un servizio nel momento in cui io applico la mia professione ho l'obbligo di rispettare la legge l'articolo 661 del codice penale omette e che è omissione di rapporto lo dice chiaramente io sono perseguibile come pubblico ufficiale e come libero professionista io devo avere il coraggio poi le difficoltà sono tante ci aiutiamo collaboriamo ma io devo avere il coraggio di dire al giudice tutelare al pg che sta succedendo qualcosa perché quello che io dico non è verità io metto in pratica la mia professione e mando avanti un'ipotesi di reato non sono io a dichiarare la sussistenza del fatto effettivo è il giudice quindi io porto all'attenzione l'ipotesi che qualcosa sta succedendo saranno poi le autorità competenti a procedere con le questioni di caso perché poi abbiamo tanta responsabilità prima vedevo porca miseria scusate non si dice abbiamo tante cose sopra le spalle però effettivamente questo lo possiamo fare uno sforzo di onestà e di coraggio grazie per questa intuizione grazie bene dalla parte dei minori noi siamo dalla parte dei minori quindi spesso i bambini non sono creduti ma noi insomma ci mettiamo ad ascoltare li mettiamo al centro del nostro lavoro allora solo una cosa sul cronoprogramma per chi c'era venerdì per chi non ce l'ha può chiamare il servizio o rivolgersi a Lucia può chiamare il servizio benissimo e inviamo queste schede ma banalmente sono è un foglio si può rifare anche su un foglio dove c'è scritto a seconda della fase dell'individuazione del processo quindi la rilevazione tutto ciò che riguarda invece la segnalazione ogni ente può definire la criticità messa in un'ottica però propositiva non dire ah non c'ho questo non posso fare no ma in un'ottica propositiva per fare questo avrei bisogno di questo 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 per esempio parlavamo con la scuola ringrazio la preside Pagano che è qui e la scuola diceva uno un bisogno di formazione quindi il Cismai che si è offerto volontario di fare la formazione la prendiamo subito in considerazione su come fare la rilevazione nell'ambito scolastico la dottoressa Tollis diceva delle criticità allora scriviamo come fare inventiamoci un codice che io so se a me mi arriva scritto codice non lo so coniglio codice giallo codice qualsiasi codice io so che cos'è e quindi l'infermera sa che appena arrivo mi dice questo è certo si accade di notte certo si accade quando noi siamo chiusi però probabilmente riduciamo il numero dei giorni in cui non c'è la disponibilità se abbiamo chiaro che cosa sta accadendo e se tu sai che se tu attivi quel codice qualcuno di noi proverà ad esserci l'ubiquità ancora non è quindi non sempre io però nel servizio adesso qualche persona in più c'è e quindi casomai in prima battuta viene l'assistente sociale oppure ci agganciamo con i servizi sociali ciao ecco ridò il microfono quindi cronoprogramma grazie grazie ok quindi siamo proprio alla fine quindi invito a salire Don Emidio Cipolloni che ha aspettato fino adesso e poi dovrà fare un viaggio per Roma perché ha una missione importante di questo ce lo dirà e ci darà un saluto per chiudere la giornata di oggi buonasera andiamo a Roma perché domani mattina consegniamo una piccola reliquia dell'apostolo San Tommaso che noi custodiamo a Ortona al patriarca della chiesa di Siria una chiesa perseguitata che comunque vive e può esserci di esempio in una situazione di difficoltà come è emerso da molti interventi sia quelli più fondativi dell'inizio sia quelli più pratici della seconda parte della serata a non lasciarci cadere le braccia come diceva Bennato tanti anni fa ma a darci da fare per essere più resilienti e più capaci anche di diventare propositivi Papa Francesco infatti a proposito del Covid che molte volte è tornato negli interventi diceva che c'è una cosa peggiore del Covid il lasciarlo passare come se nulla fosse accaduto ma utilizzare il Covid cioè una cosa problematica negativa bruttissima perché possiamo fare qualcosa di positivo questo nella storia della chiesa è successo dall'inizio fino ad oggi nella chiesa degli atti degli apostoli le vedove che non erano ebrei quelle che venivano dai greci dai gentili si lamentavano perché loro erano trattate male messe in secondo piano rispetto alle vedove ebrehe si lamentano con gli apostoli e gli apostoli che cosa fanno si inventano i diaconi e fanno diventare un problema l'inizio di una nuova realtà fanno diventare una difficoltà una risorsa questo è successo anche con la persecuzione li cacciavano da una parte non sono rimasti a piangere sono andati in altre parti e li hanno annunciato il Vangelo di Gesù così anche noi dobbiamo fare con quello che è un gravissimo problema una grande difficoltà come l'abuso dei minori l'abuso delle donne l'abuso degli adulti fragili e dobbiamo farla diventare un'opportunità per crescere naturalmente formazione informazione prevenzione creatività accompagnamento ascolto tutte parole che abbiamo sentito molto oggi pomeriggio però mi permetto di dire che molto dipende dall'idea di persona che abbiamo in mente dall'idea di uomo dall'idea di donna che abbiamo in mente perché poi da quello dipende il modo in cui ci muoveremo e da quello dipende quello che faremo e termino con un aneddoto che per un po' ci ha visti in comune fra la mia diocesi e la mia realtà di Lanciano Ortona e Sulmona non so se vi ricordate qualche anno fa volevano chiudere i punti nascita di Ortona Penne e Sulmona Ortona l'hanno chiuso Sulmona si è salvato mi pare quando lo volevano chiudere io feci un intervento alla regione feci un comunicato e lo intitolai c'era una volta la USSL perché allora si chiamava Unità Sociosanitaria Locale poi si è chiamata USL Unità Sanitaria Locale oggi si chiama ASL Azienda Sanitaria Locale ed è ovvio che un'azienda non pensa alle persone pensa ai numeri e ai redditi l'idea che c'è dietro l'idea che c'è dietro poi ti fa agire in un certo modo qual è l'idea di uomo che abbiamo nella mente e nel cuore qual è l'idea di donna qual è l'idea di bambino questo fa la differenza perché se noi abbiamo una giusta idea di uomo di donna di bambino ci comporteremo in un certo modo e anche nella formazione ci muoveremo in un certo modo perché fin quando sarà possibile fare tutto quello che voglio quando lo voglio con chi lo voglio come lo voglio basta che sto attento io per me è chiaro che non si andrà molto lontano grazie buonasera a tutti ci diamo appuntamento per il convegno diocesano che abbiamo lanciato sull'abuso online che organizzeremo buonasera a tutti vi ricordo che ci sono gli attestati di partecipazione per chi ne avesse bisogno per la formazione personale buonasera e grazie ancora grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti